Il terzo anello, ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James. Introduzione di Donatella Inzo. Quando uscì Giro di vite, nel 1898, Henry James aveva 55 anni. Alle spalle alcuni grandi successi, come Daisy Miller, ritratto di signora, ma anche alcuni grandi insuccessi. Le sue rendite da diritti d'autore erano in calo. I suoi tentativi di guadagnarsi i favori del pubblico dandosi al teatro, all'inizio degli anni novanta, erano stati un fallimento. Fu proprio nel gennaio del 1895, pochi giorni dopo la disastrosa prima del suo dramma Guy Dunville, che in una di quelle circostanze sociali dalle quali spesso traeva spunto per la sua scrittura, mentre prendeva un tè, James apprese dall'arcivescovo di Canterbury l'aneddoto dal quale avrebbe avuto origine Giro di vite. La storia, narrata all'arcivescovo da una donna, era quella di bambini in una villa di campagna isolata, affidati alle cure di servitori malvagi e corrotti, che li corrompono e li rendono malvagi a loro volta, e che anche dopo morti continuano ad apparire ai bambini per attirarli a sé e perderli completamente. Una storia che James annota nel suo diario, definendola oscura e imperfetta, ma anche piena di suggestione. Dunque, racconto di fantasmi almeno in origine. E quando si parla di racconti di fantasmi, in un contesto vittoriano, non bisogna dimenticare che non si sta parlando solo di un genere della letteratura fantastica, ma di un fenomeno di costume molto diffuso. Dal 1870 a fine secolo, negli Stati Uniti e in Inghilterra, dilagano le apparizioni di fantasmi, e il cosiddetto modern spiritualism, lo spiritualismo moderno, un movimento che affermava la possibilità sistematica di comunicare con i morti, e che dunque si offriva non solo come consolazione per la perdita dei propri cari, ma anche positivisticamente come contributo alla dimostrazione empirica dell'esistenza di una vita dopo la morte. Queste apparizioni furono anche analizzate in base a criteri scientifici dalla Society for Psychical Research, un'associazione scientifica dedita allo studio della mente umana, la stessa dalla quale avrebbe poi avuto origine la psicologia. Di questa società, proprio nel biennio 1894-95, era presidente William James, il filosofo e il fratello di Henry. E proprio da questa società giunsero a Henry James, dopo la pubblicazione del Giro di Vite, con gratulazioni, ma anche richieste di chiarimento, in merito agli elementi psichici rappresentati nella storia. Richieste che provocarono da parte dello scrittore l'assicurazione di non avere mai inteso fare nel racconto niente di serio, anzi, di averlo concepito come un'opera spudoratamente commerciale. Eppure, l'opera spudoratamente commerciale ha dato il via ad una carella interpretativa e ad una ricchezza di letture critiche che hanno pochi equivalenti nella letteratura moderna. Interpretazioni e letture, ben inteso, perfettamente giustificate dal carattere suggestivo, sfuggente, complesso, di questo racconto. Chiaramente James, come del resto spesso faceva scrivendo delle sue opere, non stava dicendo tutta la verità. Forse va più vicino al vero quando, nella prefazione al racconto, scritta alcuni anni dopo, dice che il giro di vite è un amusette, cioè un trastullo, un passatempo, fatto per far cadere in trappola, così dice, quelli che non ci cascano facilmente. Dunque una trappola narrativa, un testo astuto, perfettamente calibrato e di notevole impegno letterario. Ma un testo finalizzato a che cosa? Per ora non si può dire, per non guastare il piacere dell'ascolto. È un testo che per produrre il suo effetto ha assoluto bisogno di un primo livello di lettura, per così dire, innocente, un po' come un poliziesco genere al quale per certi versi somiglia. Ma per offrire comunque qualche altra chiave di lettura, torno ancora al contesto degli anni della composizione. Nell'annotazione di diario, subito successiva a quella contenente lo spunto del racconto, James registra la propria volontà di riprendere, con rinnovato entusiasmo, dopo il fiasco del suo progetto teatrale, la via della narrativa. E scrive «È ora davvero che posso compiere l'opera della mia vita, e lo farò». Questa frase solenne apre un periodo di intensa produttività e sperimentazione, nel corso del quale James sembra percorrere da solo, febbrilmente, tutte le strade che portano dalla compatta architettura del romanzo realista ottocentesco all'apertura, alla frammentazione di quello del Novecento. Fra il 1896 e il 1901 usciranno «L'altra casa», «Le spoglie di Poynton», «Ciò che sapeva Macy», «L'età ingrata» e quella specie di nouveau roman ante l'Hitteram, che è la fonte sacra, e usciranno inoltre tre raccolte di racconti, comprendenti alcuni dei suoi racconti più famosi, come «La cifra nel tappeto» e come appunto «Il giro di vite». Anni, quindi, in cui James fa esperimenti con le forme del romanzo, il che dovrebbe allertarci all'uso quanto mai consapevole e per certi versi estremo che nel giro di vite fa di alcuni dispositivi cruciali dell'arte del narrare, quali il punto di vista e la voce narrante. Esperimenti, quindi, con le forme del romanzo, ma non soltanto. James del romanzo amplia anche il raggio d'azione. Si spinge verso temi fin lì considerati scabrosi, primo fra tutti la sessualità, da sempre evitata nel romanzo vittoriano, e che invece ricorre onnipresente nelle opere di James di questi anni, che mettono a fuoco un assortimento di desideri variamente trasgressivi, inclusi quelli che hanno a che fare con la sessualità infantile, con le relazioni intergenerazionali ed extra coniugali, e con l'omosessualità. Tabù, quest'ultimo, particolarmente scottante per James, che proprio in quegli anni era impegnato in intense relazioni con uomini più giovani di lui, ma reso anche scottante dai fatti di cronaca. Non bisogna scordare che il 1895 è anche l'anno del processo Oscar Wilde, accusato di sodomia per le sue relazioni col giovane Lord Alfred Douglas. E anche questo contesto immediato va tenuto presente quando si legge Giro di vite, perché aiuta a spiegare, in parte, la suggestività non soltanto fantastica, che emana dalla reticenza di questo racconto. Ecco, di più non è il caso di dire. Vi lascio ora alla lettura di Maria Pagliato. Il racconto ci aveva tenuti attorno al focolare col fiato sospeso. Ma, a parte l'ovvia osservazione che esso era raccapricciante, come doveva essere una strana storia narrata alla vigilia di Natale in una vecchia casa, non ricordo che suscitasse alcun commento, finché qualcuno disse che era quello il primo caso in cui si imbatteva d'una simile esperienza toccata ad un fanciullo. Si trattava, se ben ricordo, di un'apparizione in una casa altrettanto vecchia di quella in cui eravamo riuniti per l'occasione. Una visione spaventosa apparsa ad un bambino che dormiva nella camera di sua madre e che l'aveva svegliata terrorizzato. Svegliata non per vincere il suo spavento e per farsi teneramente riaddormentare, ma perché lei stessa, prima di riuscirvi, si trovasse davanti alla medesima visione che l'aveva sconvolto. Fu questa osservazione a provocare da parte di Douglas, non immediatamente ma più tardi nella serata, una risposta che ebbe l'interessante conseguenza su cui richiamo la vostra attenzione. Qualcun altro aveva preso a raccontare una storia non particolarmente interessante ed io mi accorgevo che egli non ascoltava. Ciò mi fece capire che anche egli aveva qualcosa da dirci e che si trattava soltanto di aspettare. Aspettammo infatti due sere. Ma quella sera stessa, prima che ci separassimo, egli accennò a quel che aveva in mente. Sono d'accordo nei riguardi del fantasma di Griffin, o di quel che fosse, che l'essere apparso prima al bambino ad un'età così tenera aggiunge alla vicenda un fascino particolare. Ma per quanto ne so, non è la prima volta che un fenomeno tanto affascinante coinvolge un bambino. Se la presenza d'un bambino dà effettivamente un altro giro di vite, che ne direste di due bambini? Diremmo effettivamente, esclamò qualcuno, che sarebbero due i giri di vite, e poi che vogliamo conoscere la storia. Mi sembra ancora di vedere Douglas davanti al camino, le spalle al fuoco, le mani in tasca mentre guarda dall'alto in basso il suo interlocutore. Nessuno finora all'infuori di me ne ha mai udito nulla. È semplicemente troppo orribile. Naturalmente molte voci si levarono per dichiarare che ciò conferiva all'avvenimento un interesse estremo, e il nostro amico, con arte sottile, si preparò il trionfo, guardandoci ad uno ad uno per aggiungere poi... È al di là d'ogni immaginazione. Non posso veramente paragonarlo a nulla. Per puro terrore? Ricordo di aver chiesto. Mi sembrò che egli volesse intendere che la cosa non era tanto semplice, e che non trovava le parole per definirla. Si passò la mano sugli occhi e fece una leggera smorfia di pena. Per spavento. Perché è davvero spaventoso. Oh, che delizia! Esclamò una delle donne. Non le badò. E guardava a me, ma come se vedesse, invece di me, quello di cui parlava. La storia è scritta. Si trova in un cassetto chiuso a chiave e non è venuta fuori da anni. Potrei scrivere al mio domestico, mandargli la chiave, e lui potrebbe inviarmi il plico, così come si trova. Lo scongiurai di spedire la lettera con la prima posta e di mettersi d'accordo con noi per una sollecita lettura. Infine gli chiesi se l'esperienza di cui parlava fosse stata sua. La risposta allora fu pronta. Grazie a Dio, no. E il resoconto è tuo? Hai registrato tu la cosa? Soltanto l'impressione. È incisa qui. Si toccò il cuore. Non l'ho mai perduta. Ma il tuo manoscritto, allora, è vergato con un inchiostro vecchio, sbiadito, in una bellissima grafia di una donna. È morta da vent'anni. Mi mandò quelle sue pagine prima di morire. Era una persona piena di fascino, ma aveva dieci anni più di me, ed era l'istitutrice di mia sorella, disse quietamente. Era la più piacevole donna che avevo mai conosciuto in una simile posizione, e avrebbe potuto farsi onore in qualsiasi altro lavoro. È stato molto tempo fa, e l'episodio era ancora precedente. Io frequentavo il Trinity College e la trovai a casa quando vi tornai per le vacanze della seconda estate. Vi rimasi molto quell'anno. Era un anno bellissimo. Nelle sue ore libere talvolta si passeggiava insieme e conversavamo in giardino, e in quelle occasioni fui colpito dal suo acume e dalla sua simpatia. Ma sì, non sorridete. Mi piaceva moltissimo. E oggi ancora mi sento felice all'idea che anch'io le piacevo. Se non fosse stato così, non mi avrebbe raccontato quella storia. Non l'aveva raccontata mai a nessuno, e le credevo non soltanto perché me lo diceva, ma perché sentivo che era vero. Ne ero certo, lo vedevo. Potrete capire facilmente il motivo quando mi avrete ascoltato. Perché la vicenda era stata tanto spaventosa? Continuò a guardarmi fisso. Tu lo comprenderai facilmente, ripetè. Tu lo comprenderai. Anch'io lo fissai. Capisco. Era innamorata. Rise per la prima volta. Sei davvero acuto. Sì, era innamorata. Cioè, lo era stata. Ciò venne fuori. Non poteva raccontare la storia senza che venisse fuori. Io lo capì, ed ella si accorse che avevo capito. Ma nessuno dei due ne parlò. Ricordo l'ora e il luogo, l'angolo del prato, l'ombra dei grandi faggi, e il lungo, caldissimo pomeriggio d'estate. Non era una scenografia impressionante, ma... Si allontanò dal fuoco e tornò a gettarsi nella sua poltrona. Riceverai il plico per giovedì mattina? Gli chiesi. Probabilmente non prima della seconda posta. Bene, allora. Dopo cena. Ci incontreremo tutti qui? Ci guardò di nuovo uno per uno. Nessuno parte. E lo disse quasi con un tono di speranza. Tutti rimarranno. Ci saremo, tutti ci saremo, gridarono le signore che pure avevano già fissato la partenza. La signora Griffin non di meno manifestò la necessità di un ulteriore chiarimento. Di chi era innamorata? Il racconto lo dirà, mi presi la briga di rispondere. Oh, ma io non posso aspettare il racconto. Il racconto non lo dirà, fece Douglas, perlomeno non volgarmente, a chiare lettere. Peccato allora. È il solo modo che me lo farebbe capire. Non ce lo vuoi dire tu, Douglas? Domandò qualcun altro. Balzò di nuovo in piedi. Sì, domani. Adesso devo andare a letto. Buonanotte. E rapidamente, agguantando un candeliere, ci lasciò, piuttosto sconcertati. Sentimmo i suoi passi sulle scale dal fondo del grande salone buio dove eravamo. E fu allora che la signora Griffin prese a parlare. Bene. Se non so di chi era innamorata lei, so di chi era innamorato lui. Lei aveva dieci anni di più, disse suo marito. Raison de plus, a quell'età. Piuttosto delicata, però, questa sua lunga reticenza. Quarant'anni, precisò Griffin. E adesso questa esplosione, l'esplosione, disse io, farà di giovedì sera un'occasione memorabile. E si trovarono tutti tanto d'accordo con me, che a quella luce ogni altra cosa non aveva più alcun interesse. Ricordo tutto l'inizio come un succedersi di voli e cadute, una piccola altalena di turbamenti giusti o sbagliati. Dopo lo slancio che in città mi aveva spinta ad accettare l'invito, passai un paio di giorni veramente pessimi da ogni punto di vista, nuovamente piena di dubbi e sicura d'aver commesso un errore. In questo stato d'animo, trascorsi le lunghe ore del viaggio, in una diligenza traballante e sobbalzante che mi portava alla fermata di posta, dove avrei trovato una vettura della casa. Questa comodità, mi fu detto, era stata predisposta, e infatti trovai, sul finire di un pomeriggio di giugno, una spaziosa carrozza che mi aspettava. Viaggiando a quell'ora, in una splendida giornata, attraverso una campagna in cui la dolcezza dell'estate sembrava offrirmi un amichevole benvenuto, ripresi coraggio, e mentre svoltavamo nel viale, avvertì un senso di sollievo che probabilmente altro non era, se non la prova, di quanto era stato il mio abbattimento. Forse avevo aspettato o temuto qualcosa di tanto melanconico, che quello che mi accolse fu invece una piacevole sorpresa. Ricordo la gradevole impressione che risvegliò in me la grande e luminosa facciata, con le finestre aperte, le tende nuove, e un paio di domestiche che guardavano giù. Ricordo il prato, e gli splendenti fiori dei colori accesi, e lo stridere delle ruote sulla ghiaia, le cime degli alberi che si aggrovigliavano, e al di sopra i larghi cerchi delle cornacchi in volo, e il loro gracchiare nel cielo dorato. Lo scenario era d'una tale grandiosità da umiliare al confronto la mia tanto modesta dimora. Ed ecco che subito apparve sulla soglia del portone, tenendo per mano una bambina, una persona piena di dignità, che mi fece una rispettosa riverenza, come se io fossi la padrona, o un ospite di gran riguardo. L'idea che del luogo mi era stata data a Harley Street era assai più modesta, quindi, nel ricordarmene, mi convinsi che il proprietario era davvero un gentiluomo di razza, e immaginai che le soddisfazioni che mi aspettavano sarebbero state assai meglio di quanto mi era stato promesso. Non ebbi alcuna delusione fino al giorno seguente, perché trascorsi ore di vera esaltazione facendo conoscenza con la più piccola dei miei allievi. La bambina che accompagnava la signora Grose mi apparve di colpo una creatura era tanto incantevole da farmi ritenere una gran fortuna l'avere a che fare con lei. Era la più bella bambina che avessi mai vista, e dovette subito stupirmi che lo zio gentiluomo non me ne avesse detto qualcosa di più. Dormì assai poco quella notte, ero troppo eccitata, e anche di questa eccitazione, ricordo, ero stupita, aggiungendosi all'impressione che aveva prodotto in me la grande gentilezza con cui ero stata trattata. La vasta camera solenne, una delle migliori della casa, il letto vasto e solenne, le sontuose cortine ricamate, i lunghi specchi in cui per la prima volta nella mia vita potevo vedermi dalla testa ai piedi, tutto mi colpiva, oltre il fascino straordinario della mia piccola lieva, come troppe cose belle, tutte in una volta. mi divenne perfino chiaro, sin dal primo momento, che con la signora Grose avrei potuto stabilire quei rapporti d'amicizia sui quali, mentre viaggiavo nella diligenza, forse avevo sin troppo fantasticato. La sola cosa che in quel primo contatto avrebbe potuto risvegliare una certa inquietudine era il suo evidente sollievo nel vedermi. Mi ero accorta che per quasi mezz'ora la sua felicità nell'incontrarmi, brava donna, semplice, autentica, linda, piena di salute, era decisamente controllata perché non trasparisse troppo vistosamente. Mi ero quindi un poco meravigliata del fatto che avesse cercato di nasconderla e questo, se ci avessi riflettuto con un po' di sospetto, avrebbe dovuto mettermi a disagio. Agitata come mi sentivo, la notte mi alzai più volte e mi misi a passeggiare per la stanza perché mi diventassero familiari i contorni di ogni cosa, a spiare dalla finestra spalancata il lontano albeggiare del giorno estivo, a cercare di scoprire sin dove arrivava il mio sguardo le altre sezioni della casa e a tender l'orecchio per afferrare, mentre nell'ombra che dileguava i primi uccelli cominciavano a cinguettare certi rumori meno naturali che mi sembrava d'aver udito non all'esterno ma all'interno della casa. C'era stato un momento in cui avevo creduto di riconoscere debole e lontano il pianto di un bambino e in un altro momento avevo sussultato credendo di sentire davanti alla mia porta un passo felpato ma erano impressioni tanto lievi da potersi facilmente respingere ed è soltanto alla luce e dovrei dire piuttosto alle tenebre degli avvenimenti successivi che adesso mi tornano alla memoria. Sorvegliare istruire formare la piccola flora doveva evidentemente bastare a rendere utile e felice la mia vita. Al pian terreno la sera prima ci eravamo già accordate con la signora Grose che dopo quella prima notte la bambina avrebbe abitualmente dormito con me e a questo scopo il suo bianco lettino era già stato sistemato nella mia camera. Io mi ero impegnata a occuparmi interamente di lei e se era rimasta ancora un'ultima notte con la signora Grose lo si doveva alla considerazione che io ero un'estranea e lei timida di natura. Nonostante questa timidezza ero certa che l'avrei rapidamente conquistata. una parte della simpatia che già provavo per la stessa signora Grose derivava anche dal piacere che manifestava per la mia ammirazione e il mio incanto nel sedere ad una tavola illuminata da quattro alte candele con la mia allieva fra di esse tutta allegra di fronte a me nel suo seggiolone un tovagliolino al collo pane e latte davanti. C'erano naturalmente delle cose che alla presenza di Flora potevamo dirci solo con uno sguardo lieto e compiaciuto o con indirette e coperte allusioni e il bambino le somiglia è altrettanto straordinario non si dovrebbero adulare i bambini oh signorina assolutamente straordinario se già pensate tanto bene di questa e rimasi lì con un piatto in mano a contemplare la nostra compagna che volgeva su di noi uno sguardo tanto placido e celestiale che ci dispensava dal trattenerci cioè se già la penso così sarete facilmente conquistata anche dal signorino bene mi sembra di essere venuta solo per questo per farmi conquistare ho paura non di meno ricordo di aver aggiunto d'impulso di lasciarmi conquistare un po' troppo facilmente anche a Londra sono stata conquistata mi sembra di vedere ancora il largo volto della signora Grose mentre ascolta le mie parole a Harley Street a Harley Street beh signorina non siete la prima e non sarete nemmeno l'ultima oh dissi ridendo non pretendo di essere l'unica l'altro mio allievo ad ogni modo se ho ben capito arriverà domani no non domani signorina venerdì arriverà con la dirigenza come voi sotto la sorveglianza del postiglione e troverà ad aspettarlo la stessa vettura quello che provai il giorno dopo non era cosa che a mio giudizio si potesse onestamente chiamare una reazione all'entusiasmo dell'arrivo era probabilmente tutt'al più un lieve senso di oppressione causato da una più chiara valutazione della misura del mio nuovo impegno quanto più lo esaminavo e analizzavo in tutti i suoi aspetti le mie responsabilità avevano realmente un'estensione e un peso ai quali non ero preparata e al pensiero di doverle affrontare mi sentivo giovanilmente un po' sgomenta ma anche orgogliosa le lezioni in tale stato di agitazione subirono naturalmente qualche rinvio mi sembrò che il mio primo compito fosse quello di creare una grande intimità fra me e la bambina con l'arte più gentile di cui ero capace passai la giornata all'aperta insieme a lei avevamo convenuto anzi con suo grande compiacimento che sarebbe toccato a lei a lei soltanto di farmi conoscere il luogo me lo fece visitare passo a passo stanza per stanza segreto per segreto col suo chiacchiericcio infantile bizzarro e delizioso e con il risultato che tempo mezz'ora eravamo diventate grandissime amiche non ho più veduto Bly dal giorno in cui ne sono partita e certamente oggi apparirebbe il mio sguardo vecchio e disincantato più piccolo e angosto ma mentre la mia piccola guida dai capelli d'oro e dalla vestina azzurra mi danzava davanti da un angolo all'altro e sgambettava lungo i corridoi Bly mi sembrò un castello romantico abitato da un folletto rosa un luogo che in qualche modo per piacere a una mente infantile avesse assunto forma e colori dai libri di racconti e dalle fiabe non era forse un libro di favole quello su cui mi ero appisolata per sognare no era una casa grande brutta e vecchia ma confortevole che incorporava alcune parti d'una costruzione anche più antica mezzo rifatta e mezzo utilizzata in cui fantasticavo che ci fossimo smarriti come un pugno di passeggeri su un grande vascello alla deriva e cosa ben strana al timone c'ero io mi piace mi piace mi piace mi piace Grazie a tutti. 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 Dovete prima vederlo, signorina, poi cercate di crederlo. Sentì il vivo desiderio di conoscerlo. Era l'inizio di una curiosità che nelle ore seguenti si sarebbe acuita fino a darmi pena. La signora Grosa, quanto poteva, si rendeva conto dell'effetto dell'effetto che aveva prodotto su di me e insistì con sicurezza. Potreste pensate, potreste pensare la stessa cosa, potreste pensare la stessa cosa, potreste pensare la stessa cosa della bambina. Non di meno i suoi occhi. Per avvicinare la mia collega. Oh, mai visto. Ma non sino al punto da contaminare. Ma il giorno dopo, mentre si avvicinava l'ora di salire in carrozza, tornai improvvisamente alla carica in un'altra parte della casa. «Che tipo era la signorina che stava qui prima? L'ultima istitutrice? Era anche lei, giovane e carina, giovane e graziosa quasi quanto voi, signorina. Ah, allora spero che la giovinezza e la bellezza le siano state d'aiuto, ricordo d'aver detto con impeto. Sembra che ci preferisca giovani e belle. No, è proprio così, confermò la signora grossa. Era quello che cercava in tutte. Aveva appena pronunciato queste parole che volle correggersi. «Dico che questo è il suo gusto, rimasi di stucco. Ma di chi parlavate prima?» Si sforzò di apparire disinvolta Marossi. «Di chi, dunque? Di lui? Del padrone? E di chi altro?» Era tanto evidente che non ci poteva essere nessun altro, che un momento dopo avevo già dimenticato l'impressione che, senza volerlo, avesse detto più delle sue intenzioni. Pertanto le chiesi solo quel che desideravo sapere. E lei aveva mai notato nulla nel bambino? Che non andava bene? No, non me l'ha mai detto. Ebbi uno scrupolo, ma lo superai. Era premurosa, in modo particolare. Mi parve che la signora grossa si sforzasse di apparire coscienziosa. «Per certe cose, sì, ma non in tutto?» Sembrò voler riflettere di nuovo. «Beh, signorina, se n'è andata. Non voglio far pettegolezzi». «Oh, vi capisco perfettamente», mi affrettai a rispondere. «Ma un istante dopo, non ritenni contrastante con questo assenso di proseguire? È morta qui?» «No, se n'è andata». Non so che cosa provassi a quella concisione della signora Grose, ma mi suonava strana. «Se n'è andata per morire altrove?» La signora Grose guardava dritto davanti a sé, fuori della finestra, ma io sentivo che, almeno in teoria, avevo il diritto di sapere che cosa ci si aspettava dalle giovani assunte a Blay. «Volete dire che si ammalò e tornò a casa?» A quanto sembrano non si era ammalata qui, lasciò Blay a fine d'anno per passare a casa sua, come diceva, una breve vacanza, a cui certamente le dava diritto il tempo che aveva trascorso qui. Avevamo allora una giovane, una bambinaia, che era rimasta, una ragazza sveglia e abile, e fu lei ad occuparsi dei bambini durante la vacanza. Ma la nostra signorina non tornò più, e proprio quando mi aspettavo che tornasse, seppi dal padrone che era morta. Ci pensai un po' su. «Ma di che cosa?» domandai. «Non me l'ha mai detto, scusatemi, signorina», disse la signora Grose, «ma adesso devo tornare le mie faccende». Dopo che abbia accompagnato a casa il piccolo Miles, ero pronta a gridare che trovavo mostruoso, che un bambino come quello che avevo appena conosciuto fosse messo al bando. Arrivai con un lieve ritardo, e nel vederlo sulla porta della locanda, dove lo aveva lasciato la diligenza, gli occhi che mi cercavano ansiosamente, mi sembrò all'istante che fosse circondato e permeato della stessa luminosa freschezza, della stessa fragrante purezza che fin dal primo momento avevo notato nella sua sorellina. Era incredibilmente bello, e la signora Grose non aveva esagerato. Davanti a lui ogni cosa veniva cancellata da uno slancio di appassionata tenerezza. Ciò che fin dal primo momento mi rapì il cuore fu qualcosa di celeste, qualcosa che non avevo mai trovato allo stesso grado in altri bambini, la sua tranquilla, indescrivibile aria di non conoscere altro al mondo che l'amore. Quello a cui ripenso con stupore è lo stato di cose che avevo accettato. Mi ero impegnata di andare sino in fondo, ma a quanto ricordo ero preda di un incantesimo, capace di nascondere l'ampiezza e le implicazioni di un simile impegno. Mi sentivo sollevata da un'enorme ondata di entusiasmo e di pietà. Trovavo semplice nella mia ignoranza, nella mia confusione e forse nella mia presunzione il ritenere di poter trattare con un ragazzo che nella sua educazione alle cose del mondo era soltanto agli inizi. Tutti concordavamo che egli dovesse prendere lezioni da me durante quell'incantevole estate, ma ora mi rendo conto che fui io piuttosto a ricevere lezioni. Imparai qualcosa che non avevo appreso nella mia vita modesta e limitata. Imparai a divertirmi e perfino a saper divertire e a non pensare all'indomani. Era la prima volta, in un certo senso, che mi accorgevo dello spazio e dell'aria e della libertà, di tutta la musica dell'estate e dei misteri della natura. E poi c'era la considerazione di cui godevo, una così dolce considerazione. Oh, era una trappola, non premeditata, ma profonda, per la mia immaginazione, per la mia sensibilità, forse per la mia vanità, per qualsiasi cosa che in me fosse vulnerabile. Insomma, per dire come stavano le cose, non stavo più in guardia. Loro mi davano così poco pensiero, erano di una gentilezza d'animo veramente straordinaria. Ero solita chiedermi, ma anche questo in modo incoerente, come li avrebbe trattati l'aspro futuro. Ogni futuro è aspro. E se li avrebbe feriti? Sì, erano nel fiore della salute e della gioia. Eppure la sola forma che per gli anni a venire vedessi possibile per loro nelle mie fantasticherie era un prolungamento romantico davvero regale, del giardino e del parco. Può darsi naturalmente e soprattutto che ciò che intervenne in seguito e all'improvviso conferisca a quel primo periodo il fascino della calma, quella penombra quieta in cui qualcosa si acquatta o prende vigore. Difatti il mutamento fu simile al balzo d'una belva. Nelle prime settimane i giorni erano lunghi. Spesso al colmo della loro bellezza mi regalavano ciò che io chiamavo la mia ora, l'ora in cui, essendo venuto e trascorso per i miei allievi il tempo di prendere il tè e di andare a letto, mi restava, prima di ritirarmi definitivamente, un breve intervallo di solitudine. Per quanto mi piacessero i miei compagni, questa era l'ora del giorno che amavo di più. Era un piacere per me in quei momenti sentirmi tranquilla e in pace con la mia coscienza e anche forse pensare che con la mia discrezione, con il mio calmo buonsenso e in generale con le mie alte qualità, davo senza dubbio piacere, se mai vi avesse pensato, alla persona che mi aveva convinta con la sua insistenza. Ciò che stavo facendo era quanto egli aveva ardentemente sperato e mi aveva chiesto personalmente e che io fossi in grado, dopo tutto, di farlo mi dava una gioia anche più grande di quella che avrei potuto aspettarmi. Grazie a tutti! Un pomeriggio, nel bel mezzo della mia ora, i bambini erano fra le coltre e a letto ed io ero uscita per la mia passeggiata. Uno dei pensieri che erano soliti accompagnarmi in quel mio vagabondare era che sarebbe stato incantevole, degno di un romanzo affascinante, incontrare improvvisamente qualcuno, qualcuno che mi apparisse laggiù, alla svolta del sentiero e che fermo davanti a me mi sorridesse con l'aria di approvarmi. Non chiedevo niente di più, chiedevo soltanto che sapesse, e il solo modo per essere certa che sapeva sarebbe stato di leggerlo nel suo bel viso, rischiarato dalla luce di quella consapevolezza. Tutto ciò, intendo dire soprattutto quel volto, era esattamente presente al mio spirito quando, alla prima di quelle straordinarie occasioni sul finire di una lunga giornata di giugno, mi fermai di colpo uscendo da uno dei boschetti in vista della casa. Ciò che mi aveva fatta fermare di colpo, preda di un turbamento assai più profondo di quanto sarebbe stato provocato da un'apparizione, era l'impressione che la mia fantasia in un lampo fosse diventata realtà. Egli era là, ma su in alto, oltre il prato, proprio sulla cima della torre, dove la prima mattina mi aveva condotto la piccola flora. Nel limpido crepuscolo quell'immagine produsse in me, ricordo, due emozioni ben distinte, le quali non furono in definitiva che due sussulti separati di sorpresa. La seconda sorpresa fu la violenta percezione dell'errore della prima. L'uomo che vedevo non era infatti la persona che avevo precipitosamente supposto. Ne provai un tale turbamento che, dopo tanti anni, non posso sperare di darne una descrizione vivida. Si ammetterà che un uomo sconosciuto in un posto solitario sia causa di paura per una ragazza cresciuta in famiglia. E la figura che mi stava di fronte bastarono pochi secondi perché ne fossi certa. Non assomigliava minimamente né a qualcuno che conoscessi, né all'immagine che mi era familiare. Non l'avevo veduto a Harley Street, non l'avevo veduto in nessun luogo. Per giunta il posto era diventato all'istante, per il solo fatto di quell'apparizione, perfettamente desolato. Si rinnova interamente, almeno in me, mentre stendo qui la mia testimonianza con una lucidità che non avevo mai avuto prima, la sensazione di quel momento. Era come se, nell'istante in cui mi rendevo conto di quel che vedevo, tutta la scena fosse stata toccata dalla morte. Mi sembra di udire ancora mentre scrivo il silenzio totale in cui si spensero tutti i rumori della notte. Le cornacchie smisero di gracchiare nel cielo dorato e l'ora amica smarrì per il momento tutta la sua voce. Ma nient'altro era mutato nella natura, a meno che non fosse per un mutamento che io vedevo con eccezionale chiarezza. L'oro stava ancora sospeso nel cielo, l'aria era limpida e l'uomo che mi osservava da sopra i merli sembrava un ritratto nella sua cornice. Fu per questo che pensai con una straordinaria rapidità a tutte le persone che avrebbe potuto essere e non era. Ci eravamo guardati da lontano abbastanza a lungo perché avessi modo di chiedermi con ansia chi mai fosse e di provare come conseguenza della mia incapacità di trovare la risposta uno stupore che si faceva sempre più intenso. Eravamo troppo distanti per poterci rivolgere la parola ma ci fu un momento in cui se fossimo stati più vicini una parola di sfida tra di noi rompendo il silenzio sarebbe stato il giusto risultato di quel nostro reciproco e sfrontato fissarci. Egli stava in un angolo il più lontano della casa dritto come un fuso e con le due mani sul parapetto. Sì che lo vidi come vedo le lettere che vado tracciando su questa pagina. Poi un minuto dopo come per rendere più interessante lo spettacolo lentamente cambiò di posto passò guardandomi fisso per tutto il tempo all'angolo opposto della piattaforma. Sì ebbi la netta sensazione che durante quello spostamento non mi togliesse mai gli occhi di dosso. E in questo momento vedo ancora la sua mano passare da un merlo all'altro mentre lui si muove. Giunto all'angolo opposto si fermò ma meno a lungo e anche nel ritirarsi continuò a fissarmi intensamente. Si volse e per me fu tutto. Non si può certo dire che in quell'occasione non mi aspettassi di saperne di più tanto a fondo ero stata impietrita e altrettanto scossa. c'era un segreto a Bligh forse un pazzo un parente innominabile tenuto laggiù in un isolamento insospettato. Non saprei dire per quanto tempo vi rimuginai sopra o per quanto tempo sospesa tra curiosità e paura rimasi sul luogo dove avevo avuto quel traumatico incontro. Ricordo soltanto che quando rientrai in casa la notte era scesa. Nel frattempo l'agitazione si era certamente impadronita di me al punto che aggirandomi sempre nel medesimo posto dovevo aver percorso circa tre miglia. Ma mi sarebbe toccato in seguito un tale cumulo di angosce che quel primo segno di allarme era un brivido ancora relativamente umano. L'aspetto più singolare della vicenda singolare quanto tutto il resto mi apparve chiaro allorché incontrai nell'atrio la signora Grose. La scena mi ricompare davanti nelle sue linee generali. Riprovo l'impressione che mi fecero rientrando l'ampio spazio a pannelli bianchi vivamente illuminato dalle lampade con i suoi ritratti e il tappeto rosso e il dolce sguardo meravigliato della mia amica che immediatamente mi disse di aver sentito la mia mancanza. compresi subito in questo contatto con lei che con quella sua tranquilla cordialità con quella semplice ansia dissipata dalla mia comparsa la signora Grose non sapeva nulla che avesse a che fare con l'incidente che ero pronta a raccontarle. Non avevo immaginato che il suo viso amico mi avrebbe tanto rianimata e in certo qual modo misurai la gravità di quanto avevo veduto dall'esitazione che provai a parlarne. Quasi nient'altro in tutta questa storia mi appare tanto strano quanto il fatto che alla paura che cominciava a invadermi si mescolasse per così dire l'istinto di risparmiare la mia compagna. Di conseguenza per ragioni che sinora non avrei potuto spiegare si compì in me in quell'atrio accogliente sotto il suo sguardo un rapido rivolgimento interiore giustificai con una vaga scusa il mio ritardo e prendendo a pretesto la bellezza della notte la rugiada abbondante e i piedi bagnati mi ritirai il più presto possibile in camera mia. Lì fu un'altra cosa lì per molti giorni di seguito fu davvero una strana faccenda di giorno in giorno vi furono ore o almeno momenti strappati anche ai doveri più elementari in cui dovetti chiudermi in camera a pensare qualunque cosa fosse ciò che io sapevo intorno a me nessuno ne sapeva nulla c'era dunque una sola conclusione sensata qualcuno si era preso una libertà molto greve era questo che mi ripetevo quando correvo a chiudermi in camera mia tutti noi collettivamente eravamo stati vittime di un'intrusione qualche viaggiatore privo di scrupoli curioso di vecchie dimore era penetrato in casa senza essere visto si era goduto il panorama dal posto più indicato e poi era uscito furtivamente così come era entrato se mi aveva squadrato con tanta sfrontatezza ciò faceva parte semplicemente della sua maleducazione dopo tutto il lato buono della cosa era che certamente non l'avremmo più rivisto il mio delizioso compito rendeva davvero tutto il resto molto poco significativo il mio compito delizioso era nient'altro che la mia vita con Miles e Flora e nulla me l'avrebbe potuto rendere più piacevole quanto il sentimento di potermi ci dedicare anima e corpo nonostante il mio turbamento l'attrattiva dei miei piccoli incarichi era una gioia continua che mi portava a meravigliarmi continuamente dei miei vani timori originari del disgusto che avevo provato all'inizio per il probabile prosaico grigiore del mio incarico una domenica piove tanto a lungo e talmente forte che non potemmo affluire in chiesa di conseguenza durante la giornata mi accordai con la signora Grose che se verso sera il tempo fosse migliorato saremmo andate insieme alla funzione vespertina fortunatamente la pioggia cessò ed io mi preparai per la passeggiata fino al villaggio che attraverso il parco e lungo la strada maestra richiedeva una ventina di minuti scendendo le scale per incontrarmi con la mia collega nell'atrio mi ricordai di un paio di guanti che avevano richiesto qualche punto e l'avevano avuto mentre i bambini prendevano il tè alla domenica eccezionalmente servito in quel gelido e pulito tempio di mogano e di ottone che era la sala da pranzo dei grandi i guanti li avevo lasciati là e andai a riprenderli la giornata era piuttosto grigia ma la luce del pomeriggio ancora indugiava e mi permise nel varcare la soglia non soltanto di riconoscere su una sedia vicino alla grande finestra chiusa ciò che cercavo ma anche di accorgermi di una persona che dalla parte esterna della finestra guardava nella stanza mi era bastato fare un passo la visione fu istantanea e perfettamente chiara la persona che guardava nella stanza era la stessa che mi era già apparsa mi riapparve non direi con maggior nitidezza cosa che sarebbe stata impossibile ma con una vicinanza che costituiva un passo avanti nei nostri rapporti e che al vederlo mi gerò il sangue si trattenne solo per pochi secondi ma abbastanza per convincermi che anche lui mi aveva vista e riconosciuta e fu come se lo avessi guardato per anni e lo conoscessi da sempre accadde però qualcosa che non era avvenuta la volta precedente il suo sguardo che si fissava sul mio attraverso i vetri dall'altro lato della stanza era duro e scrutatore come la prima volta ma mi abbandonò per un attimo durante il quale lo seguì e lo vidi posarsi successivamente su diverse altre cose immediatamente un'altra certezza mi sconvolse non era venuto per me era venuto per qualcun altro questa fulminea consapevolezza perché proprio di consapevolezza si trattava per quanto mescolata alla paura produsse in me un effetto straordinario suscitò mentre me ne stavo lì una vibrazione improvvisa di dovere e di coraggio dico coraggio perché senza dubbio ero già fuori di me lasciai di corsa la sala da pranzo raggiunsi l'ingresso della casa in un attimo fui nel viale e voltato il più rapidamente possibile l'angolo della terrazza gettai lo sguardo lungo la facciata ma non c'era nulla da vedere il mio visitatore il mio visitatore era svanito mi fermai e quasi svenni per il sollievo ma tenevo il luogo sotto controllo gli diedi il tempo di ricomparire avvertivo confusamente che dovevo mettermi nello stesso luogo nel quale si trovava e così feci premetti il viso contro il vetro e guardai nella stanza come lui aveva fatto proprio quasi per permettermi in quel momento di giudicare l'ampiezza del suo campo visivo la signora Grose entrò nell'atrio come io avevo fatto poco prima ebbi così la perfetta ripetizione di ciò che era già accaduto mi vide come io avevo visto il mio visitatore si arrestò di colpo come avevo fatto io le feci provare in parte la stessa scossa che io avevo ricevuto impallidì facendomi chiedere a me stessa se anche io fossi impallidita tanto in breve mi fissò e si ritrasse esattamente come avevo fatto io compresi che usciva dalla casa per raggiungermi e che presto l'avrei incontrata rimasi dove mi trovavo e mentre l'aspettavo più di un pensiero mi attraversò la mente ma ne voglio ricordare qui uno solo mi chiesi perché anche lei si fosse spaventata tesi una mano alla signora Grose ed ella la prese la strinsi con forza per un po' contenta di sentirme la vicino i suoi occhi dicevano molto chiaramente che non desiderava essere spaventata a sua volta ma dissero anche che conosceva troppo bene gli obblighi della sua posizione per non essere pronta a condividere con me qualunque serio inconveniente oh era scritto che ne dovesse condividere molti quello che avete visto un momento fa dalla finestra della sala da pranzo ecco quello che ho visto io un attimo prima era anche peggio la sua mano si strinse che cos'era un uomo stranissimo guardava dentro un uomo stranissimo non ne ho la minima idea in vano la signora Grose si guardò intorno ma dov'è andato ne so ancora meno lo avevate già visto si una volta sulla torre vecchia non pote far altro che guardarmi più fisso volete dire che è uno sconosciuto oh assolutamente riflettè un momento era un signore mi resi conto che non avevo bisogno di pensarci su no mi guardava con crescente stupore no allora non è nessuno del posto nessuno del villaggio nessuno nessuno non ve l'ho detto ma me ne sono accertata e mise un leggero sospiro di sollievo stranamente sembrava andar meglio ma fu solo questione di un attimo allora se non è un signore che cosa è è un orrore è un orrore un orrore è è Dio mi aiuti se lo so ancora una volta la signora Grose si guardò attorno fissò lo sguardo nell'oscurità che stava avanzando poi riprendendosi si rivolse a me con una brusca incoerenza a quest'ora dovremmo essere in chiesa non me la sento di andare in chiesa non potrebbe farvi bene non ne farebbe a loro esclamai accennando alla casa ai bambini non posso lasciarli proprio adesso avete paura parlai con estrema chiarezza ho paura di lui sul largo volto della signora Grose apparve a questo punto e per la prima volta un remoto debole lampo di consapevolezza e in qualche modo vicolsi il tardivo spuntare di un'idea che io non le avevo suggerito e mi era ancora completamente oscura ricordo di aver pensato subito che avrei potuto strapparle al riguardo qualche confidenza e sentivo che la cosa era legata al desiderio da lei immediatamente dimostrato di saperne di più quando è successo sulla torre verso la metà del mese a questa stessa ora ma com'era potuto entrare e com'era potuto uscire non ho avuto modo di chiederglielo stasera lo vedete non ce l'ha fatta entrare si limita a spiare spero che si limiterà a questo ora aveva lasciato la mia mano e aveva distolto un po' con lo sguardo attesi un momento poi prorupi andate in chiesa arrivederci io devo vigilare lentamente si rivolse ancora a me avete paura per loro ci scambiamo un altro lungo sguardo e voi no invece di rispondermi si fece più vicino alla finestra e per un po' premette il viso contro il vetro era così che lui guardava continuai non si mosse quanto tempo è rimasto qui finché non son corsa fuori era uscita per sorprenderlo la signora Grose finalmente si voltò e il suo viso era divenuto ancora più espressivo io non sarei potuta uscire e nemmeno io eppure sono uscita ho dei doveri anche io ai miei replicò e subito dopo aggiunse a chi somiglia non so che cosa darei per potervelo dire ma non somiglia a nessuno hai i capelli rossi continuai molto rossi molto ricciuti e una faccia pallida allungata dai lineamenti regolari e piacevoli e piccoli curiosi favoriti rossi come i capelli le sopracciglie sono però più scure notevolmente arcuate e danno l'impressione di essere molto mobili gli occhi sono penetranti strani in modo orribile ma posso soltanto dire con precisione che sono piuttosto piccoli e molto fissi la bocca è grande con labbra sottili e se si escludono i piccoli favoriti è perfettamente rasato è alto agile dritto come un fuso ma un signore no assolutamente no mentre parlavo la mia compagna era ulteriormente impallidita i suoi occhi tondi si erano spalancati e la sua mite bocca si aprì un signore balbettò confusa stupita un signore lui allora lo conoscete cercò visibilmente di riprendersi ma è un bell'uomo trovai il modo di aiutarla notevolmente bello e vestito con i vestiti di un altro sono eleganti ma non sono i suoi si lasciò sfuggire un gemito soffocato di approvazione sono i vestiti del padrone colsi la palla al balzo allora lo conoscete davvero esitò ma soltanto un attimo quint esclamò quint peter quint il suo domestico personale il suo cameriere quando lui stava qui quando stava qui ancora boccheggiando ma pronta ad aiutarmi mi fornì gli altri particolari non portava mai cappello ma si metteva insomma erano scomparse alcuni panciotti erano qui tutte e due l'anno scorso poi il padrone se ne andò e quinta rimase solo insistete ma un poco esitante solo solo con noi poi come se estraesse le parole ancora più dal profondo aggiunse a capo di tutti noi e che ne è stato di lui tardò tanto a rispondermi che mi sentì ancora più avviluppata se ne è andato anche lui sbottò alla fine andato dove un'espressione indicibile a questa mia domanda le si dipinse sul viso dio sa dove è morto morto quasi gridai la signora grusa sembrò chiamare a raccolta tutte le sue forze piantandosi più saldamente al suolo per esprimere l'arcano di quel fatto sì il signor quinta è morto nessuna di noi due quella sera dopo la rivelazione che per più di un'ora mi aveva lasciato tanto prostrata si era recata in chiesa per la funzione c'era invece stata una piccola funzione privata a base di lagrime e di voti di preghiere e di promesse culmine di una serie di richieste e di impegni reciproci che aveva avuto luogo immediatamente dopo che ci eravamo rifugiate e chiuse a chiave nello studio per una spiegazione esauriente quella sera arrivammo di comune accordo alla conclusione che tutte e due insieme avremmo potuto affrontare meglio gli avvenimenti e non ero neppure sicura che non fosse lei malgrado la mia prova le fosse stata risparmiata a dover portare il fardello più pesante credo che già sapessi allora come seppi più tardi quello che ero in grado di affrontare per proteggere i miei allievi ma mi ci volle un po' più di tempo per essere pienamente sicura di ciò che la mia onesta alleata era pronta a sostenere per mantenere i termini di un impegno tanto rischioso ero una compagna piuttosto strana quasi quanto lei lo era per me ma riandando mentalmente a quello che ci toccò sopportare scorgo quanto fortemente ci riunì quella sola idea che per buona fortuna poteva darci forza e fu quell'idea quel secondo impulso che mi trasse definitivamente fuori per così dire dalla segreta della mia paura ricordo ora perfettamente in che modo curioso ritrovai tutte le mie energie prima che ci separassimo per la notte avevamo esaminato ripetutamente ogni particolare di ciò che avevo visto cercava qualcun altro voi dite qualcuno che non eravate voi cercava il piccolo Miles ora vedevo tutto con prodigiosa chiarezza ecco chi cercava ma come lo sapete lo so lo so lo so la mia esaltazione cresceva e anche voi lo sapete mia cara non lo negò ma io sentivo di non aver nemmeno bisogno di quella controprova un momento dopo ad ogni modo ella riprese e se lo avesse visto il piccolo Miles è proprio questo che desidera parve di nuovo immensamente sconvolta il bambino Dio non voglia l'uomo lui vuole apparire a loro che potesse davvero riuscirci era un pensiero orribile eppure in certa misura potevo tenerlo a bada cosa che del resto mentre indugiavamo la riuscivo a dimostrare praticamente ero assolutamente certa che avrei rivisto quel che già avevo visto ma qualcosa mi diceva che se mi fossi offerta bravamente come l'unico bersaglio di quella esperienza se avessi accettato invocato e infine superato tutto quanto io sola sarei servita da capo espiatorio e così facendo avrei salvaguardato la tranquillità dei miei compagni i bambini in particolar modo li avrei posti al riparo e salvati in via assoluta ricordo una delle ultime cose che disse alla signora Grose quella sera mi colpisce il fatto che i miei allievi non abbiano mai parlato mi teneva gli occhi addosso mentre io pensierosa mi interruppi della sua permanenza qui e del tempo che hanno passato con lui di quel tempo del suo nome della sua presenza della sua storia in una parola oh la signorina non se ne ricorda lei non ha mai sentito o conosciuto le circostanze della sua morte riflettevo intensamente forse no ma Miles dovrebbe ricordare Miles dovrebbe sapere oh non mettetelo alla prova proruppe la signora Grose le restituì lo sguardo che mi aveva lanciato non abbiate paura continuavo a riflettere però è piuttosto strano che non ne abbia mai parlato nemmeno la minima allusione e voi mi dite che erano grandi amici oh lui no dichiarò con vigore la signora Grose era un capriccio di Quint di giocare con lui voglio dire per viziarlo tacque per un momento poi aggiunse Quint si prendeva troppe libertà questo mi diede per quel che ricordavo di quel viso e che viso un'improvvisa sensazione di disgusto troppe libertà col mio bambino troppe con tutti eravamo sulle rive del laghetto e poiché avevamo cominciato da poco a studiare geografia il laghetto era il mare d'Azov all'improvviso mi resi conto che sull'altra sponda del mar d'Azov avevamo uno spettatore interessato ero seduta con un lavoretto tra le mani sul vecchio sedile di pietra che dominava lo stagno e in questa posizione cominciai ad avvertire con sicurezza pur senza vederla direttamente la lontana presenza di una terza persona i vecchi alberi i fittici spugli facevano un'ombra ampia e piacevole ma tutto era soffuso dal fulgore di quell'ora calda e quieta non vi era nulla d'ambiguo tutti intorno assolutamente nulla almeno nella convenzione che si andava affermando in me a proposito di ciò che avrei visto dritto davanti a me al di là del laghetto se solo avessi alzato gli occhi li tenevo fissi sul cucito che mi occupava e mi par di sentire ancora lo spasimo dello sforzo che feci per non alzarli sin che non mi fossi calmata abbastanza per poter decidere sul da farsi c'era là in piena vista un oggetto estraneo una figura a cui negai subito appassionatamente il diritto di trovarsi dove era ricordo d'aver fatto tutte le ipotesi possibili al riguardo dicendo a me stessa che non vi sarebbe stato niente di più naturale per esempio dell'apparizione di uno degli uomini che lavoravano nella tenuta o anche di un messaggero di un portalettere di un garzone di bottega venuto dal villaggio ma questi pensieri ebbero scarso effetto sulla mia pratica certezza in quanto ero già convinta pur senza aver ancora alzato lo sguardo che non centravano per nulla con la specie e il contegno del nostro visitatore non c'era niente di più naturale del fatto che cose del genere fossero ciò che assolutamente non erano della precisa identità dell'apparizione mi sarei resa conto non appena nel piccolo orologio del mio coraggio avesse scoccato il momento esatto frattanto con uno sforzo che già mi costò non poco rivolsi lo sguardo alla piccola flora che in quel momento si trovava pochi metri più in là per un attimo per l'ansia e il terrore che anche lei potesse vedere qualcosa il mio cuore cessò di battere e tratteni anche il respiro nell'attesa di ciò che un suo grido un suo improvviso innocente segno di curiosità o di allarme mi avrebbe rivelato aspettai ma nulla avvenne poi e sento che c'è qualcosa di più spaventoso in questo di tutto ciò che ho ancora da raccontare da prima a decidermi fu la sensazione che da circa un minuto giocando aveva la schiena rivolta all'acqua questa era la sua posizione quando finalmente la guardai la guardai con la precisa convinzione che eravamo ancora sottoposte tutte e due a un'osservazione diretta e personale la bambina aveva raccolto un pezzetto di legno piatto con un piccolo foro che evidentemente le aveva suggerito l'idea di infilarvi un altro legnetto a mo' di albero maestro per farne una barca mentre la fissavo era tutta intenta a cercare di infilare con grande cura quel secondo frammento di legno l'aver visto quel che stava facendo mi rincuoro a tal punto che pochi istanti dopo sentii che ero pronta a tutto allora distolsi di nuovo lo sguardo e affrontai quel che dovevo affrontare appena mi fu possibile andai in cerca della signora Grose e non so dare un'idea precisa di come superai l'intervallo di tempo però mi sento ancora gridare mentre mi getto dritta nelle sue braccia essi sanno è troppo mostruoso sanno sanno e cosa mai sentivo la sua incredulità mentre mi sorreggeva ma come tutto quello che noi sappiamo e il cielo sa che altro ancora poi mentre lei mi lasciava andare le spiegai l'accaduto e forse lo spiegai soltanto allora con piena coerenza anche a me stessa due ore fa in giardino e riusciva appena ad articolare le parole flora ha visto la signora Grose accolse queste parole come avrebbe potuto accogliere un pugno nello stomaco ve lo ha detto lei domandò Ansante non una parola ecquista tutto l'orrore della cosa ha tenuto ogni cosa per sé una bambina di otto anni quella bambina lo sbigottimento che provavo era ancora indicibile la signora Grose naturalmente poteva solo sbalordire di più ma allora come lo sapete ero là l'ho visto con i miei occhi ho visto che si rendeva perfettamente conto volete dire della presenza di lui no 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 di lei mi accorgevo nel parlare che sul mio viso si stavano inseguendo prodigiose espressioni perché le vedevo man mano riflesse sul volto della mia compagna un'altra persona questa volta ma una figura di repulsione e malignità quasi altrettanto inconfondibili una donna in nero pallida e orrenda con un'espressione poi e una faccia sull'altra sponda del laghetto ero là con la bimba tranquilla in quel momento e proprio l'ora è venuta venuta come da dove da dove vengono loro è semplicemente apparsa ed è rimasta lì ma non troppo vicina era qualcuno che voi non avevate mai visto sì sì ma qualcuno che la bambina conosceva qualcuno che voi avevate visto poi per rivelarle a quale conclusione ero pervenuta la donna che mi ha preceduta quella che è morta la signorina Gesson la signorina Gesson non mi credete incalzai si voltò di qua e di là agitatissima come potete esserne certa la domanda nello stato di nervi in cui mi trovavo mi strappò un moto di impazienza allora chiedetelo a Flora lei ne è sicura ma non avevo ancora finito di parlare che subito mi riprese no 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 per l'amor di dio non lo fate direbbe che non è vero mentirebbe la signora Gesson non era ancora sconvolta al punto di rinunciare ad un atto istintivo di protesta oh come potete pensare perché vedo chiaro Flora non vuole che io sappia allora è stato per risparmiarvi no 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 ci sono degli abissi degli abissi più ci ripenso e più vedo a fondo e più vedo a fondo e più ho paura non so più che cosa non vedo che cosa non mi fa paura la signora Grosa si sforzò di seguirmi volete dire che avete paura di vederla di nuovo oh no no non è niente a questo punto poi mi spiegai ho paura di non rivederla ma la mia compagna restava soltanto smarrita non vi capisco ecco ho paura che la bambina vada avanti con questa storia e lo farà certamente senza che io lo sappia quella donna è l'orrore degli orrori a queste parole la signora Grosa tenne per un po' gli occhi fissi a terra poi rialzandoli ditemi come fate a saperlo chiese a saperlo perché l'ho vista per come guardava vi guardava intendete dire malignamente no dio mio questo avrei potuto sopportarlo a me non ha dato nemmeno un'occhiata fissava soltanto la bambina la signora Grosa tentò di immaginarselo la fissava con quegli occhi spaventosi guardò allora nei miei quasi potessero somigliare davvero a quelli volete dire con antipatia dio ci salvi no no con qualcosa di molto peggio peggio dell'antipatia e sembrava veramente perplessa con una determinazione indescrivibile con un'intenzione quasi furibonda l'avevo fatta impallidire intenzione di impadronirsi di lei la signora Grosa guardandomi appena negli occhi era brividi e andò alla finestra e mentre stava lì a guardar fuori completai la mia osservazione ecco che cosa sa Flora poco dopo si voltò quella persona era vestita di nero avete detto era in lutto un lutto piuttosto povero quasi logoro ma sì sì era di una bellezza straordinaria comprendevo ora a che punto passo a passo avevo portato la vittima delle mie confidenze poiché alle mie ultime parole la vedi duramente colpita oh bella molto bella davvero insistetti meravigliosamente bella ma infame lentamente tornò verso di me Miss Jessel era infame ancora una volta mi presi una mano tra le sue tenendola stretta quasi per darmi forza contro la crescita di spavento che quella rivelazione poteva provocare tutte e due erano infami disse finalmente così per un po' guardammo in faccia la verità ancora una volta e fu per me quasi un sostegno vedere come stavano realmente le cose apprezzo l'estremo riservo che vi ha impedito di parlare sino ad ora ma è certamente arrivato il momento di rivelarmi tutto sembrò accondiscendere alle mie parole ma restava tuttavia in silenzio sicché continuai lo devo sapere ora di che cosa è morta avanti c'era qualcosa tra loro due c'era tutto a dispetto della differenza oh della differenza di rango di condizione lo confessò gemendo lei era una signora ci pensai e compresi di nuovo sì era una signora e lui così terribilmente al di sotto non ho mai visto nessuno come lui faceva quel che voleva di lei di tutti loro ora era come se la signorina Jessel fosse riapparsa negli occhi della mia amica a me almeno sembrò che per un attimo la rievocassero così distintamente come io l'avevo veduta vicino allo stagno e dichiarai risolutamente anche lei però lo doveva desiderare il volto della signora Grose dimostrò che era stato davvero così ma lei aggiunse nello stesso momento poveretta ha pagato per questo allora sapete di che cosa è morta chiesi no no non so niente non volevo sapere niente ero contentissima di non aver saputo nulla e ringraziare il cielo che fosse ben lontano da qui non avrebbe potuto restare ma pensate un'istitutrice in questa casa più tardi immaginai e lo immagino ancora e quel che immagino è spaventoso scoppiai in lacrime proprio come avevo fatto scoppiare in lacrime lei la prima volta mi strinse il suo seno materno e i miei gemiti dilagarono non ce la faccio singhiozzai disperatamente non li posso né salvare né proteggere è assai peggio di quanto immaginassi sono perduti di quanto immaginassi tanto non avete non avete la mia terribile capacità di immaginazione e soffocate per timidezza e pudore e delicatezza persino quell'impressione che in passato quando dovevate brancolare in silenzio senza il mio aiuto vi rendeva infelice più di tutto ma finirò per strapparvela c'era qualcosa nel bambino che vi suggeriva che lui coprisse e dissimulasse la loro relazione non poteva impedire che voi veniste a sapere la verità lo credo bene ma mio dio proruppi con vehemenza fremendo al solo pensarci come tutto questo dimostra che cosa erano riusciti a fare di lui o nulla che adesso non sia cambiato in meglio commentò lugubremente la signora Grose non mi stupisco più dell'aria strana che avevate insistetti quando vi parlai della lettera giunta dal collegio mi chiedo se avevo l'aria strana quanto voi replicò con schietta energia e allora se era cattivo come sembra come mai adesso è un angioletto è vero se in collegio era un discolo come mai come mai bene dissi nella mia angustia dovete domandarmelo ancora ma non sarò in grado di darvi una risposta prima di qualche giorno però domandatemelo di nuovo esclamai in un tono tale che la mia amica mi guardò stupefatta vi sono direzioni nelle quali sarà bene per ora che io non mi avventuri e per il momento ritornai al suo primo esempio quello a cui aveva già all'uso vale a dire la rassicurante capacità del bambino di commettere di quando in quando una marachella a proposito della rimostranza che faceste all'epoca di cui parlate se Quint non era che un servo volgare immagino che Miles abbia risposto che l'eravate anche voi e il suo cenno d'assenso ancora fu così eloquente che continuai e voi glielo avete perdonato voi non l'avreste fatto oh sì e ci lasciammo andare ad una manifestazione di larità che suonò strana in quella quiete poi proseguì ad ogni modo mentre lui stava con l'uomo la signorina Flora stava con la donna era una cosa che andava bene a tutti loro e andava bene anche a me sin troppo bene voglio dire che si accordava la perfezione con il sospetto mortale che cercavo a tutti i costi di proibire a me stessa ma riuscì tanto bene a impedirmi di formulare quel pensiero che per il momento non darò altri chiarimenti a riguardo se non quello che può essere fornito dall'ultima frase che rivolse alla signora Grose il fatto che abbia mentito e che sia stato impudente mi sembra lo confesso un sintomo meno incoraggiante di quello che avevo sperato di conoscere da voi a proposito del prorompere nel bimbo dell'umana natura tuttavia dissi pensierosa ne terrò conto perché sento più che mai che devo vigilare un attimo dopo arrossivo nel vedere dall'espressione del viso della mia amica come lei gli avesse perdonato più completamente di quanto la mia temerezza fosse spinta a fare dall'aneddoto che mi aveva raccontato questo fu chiaro quando sulla porta dello studio prese congedo da me certamente non lo vorrete accusare di coltivare una relazione che mi nasconde ricordate che sino a prova contraria non accuso nessuno poi prima di chiudere la porta dietro a lei che si disponeva ad andare in camera sua passando per un altro corridoio dissi come conclusione devo soltanto aspettare aspettai e aspettai e il correre dei giorni si portava via un po' della mia costernazione infatti un piccolissimo numero di quei giorni trascorsi a tener d'occhio i miei allievi senza che accadesse il minimo incidente bastò a passare come un colpo di spugna sulle amare fantasticherie e persino sugli odiosi ricordi lo sforzo per lottare contro la luce che si era fatta in me risultava certamente più strano di quanto io non possa dire ero solita chiedermi come mai i miei pupilli non indovinassero che io pensavo di loro cose assai strane c'erano momenti in cui spinta da un impulso irresistibile li afferravo a me li stringevo al cuore e subito dopo mi domandavo che cosa ne penseranno a questo modo non mi tradisco la vera ragione delle ore di pace che ancora riuscivo a godere stava lo sento nel fascino immediato dei miei compagni che era un sortilegio ancora efficace anche se minacciato da un sospetto di ipocrisia perché se non mi sfuggiva che le brevi espansioni della mia ardente tenerezza potevano suscitare i loro sospetti ricordo anche di essermi domandata se per caso non c'era qualcosa di singolare anche nell'evidente accrescersi delle loro manifestazioni d'affetto durante quel periodo mi dimostrarono un attaccamento esorbitante e anormale me lo spiegavo dicendomi che dopo tutto non era che la graziosa risposta di bambini continuamente riveriti e vezzeggiati l'omaggio di cui erano così prodighi ebbe in realtà un eccellente effetto sui miei nervi come se non mi fossi mai presa la briga per così dire di sorprenderli con le mani nel sacco penso che non avessero mai desiderato come ora di fare tante cose per la loro povera protettrice voglio dire benché si applicassero sempre più e sempre meglio allo studio cosa che naturalmente mi procurava un enorme piacere distrarla divertirla prepararle sorprese leggerle qualcosa raccontarle storie rappresentarle sciarade saltarle addosso mascherati da animali o da personaggi storici e soprattutto stupirla con pezzi che avevano segretamente imparato a memoria e potevano recitare all'infinito non riuscirei mai nemmeno se mi abbandonassi completamente all'onda dei ricordi a descrivere sino in fondo la stupenda segreta attenzione tenuta sotto una sorveglianza anche più segreta che dedicavo in quel tempo alle loro giornate così piene il caso era talmente singolare che contribui largamente ad un fatto che anche oggi non riesco a spiegare diversamente alludo alla mia anormale tranquillità riguardo alla scelta di una nuova scuola per Miles quel che ricordo è che mi accontentavo per il momento di non aprire la questione e che quello a pagamento doveva essere scaturito dall'impressione prodotta in me dalle sue continue sorprendenti prove di intelligenza era troppo intelligente perché potesse nuocergli una mediocre istitutrice figlia ad un pastore e il più strano se non il più brillante dei fili del ricamo mentale di cui ho parlato era la sensazione avrei saputo rendermene conto chiaramente se avessi usato analizzarla che gli fosse in preda ad un'influenza che agiva come un formidabile incitamento alla sua giovane vita intellettuale se era facile ammettere tuttavia che un bambino come quello potesse ritardare la propria entrata in una scuola era almeno altrettanto ovvio che il fatto che un bambino simile fosse stato buttato fuori da un maestro di scuola costituiva un mistero inspiegabile aggiungo che stando in loro compagnia avevo cura in quel periodo di non lasciarle quasi mai non riuscivo a seguire a lungo nessuna pista mi accorgo di tirar davvero troppo per le lunghe è ora che mi decida al gran passo nel proseguire il racconto di ciò che vidi di orribile a Blay io non soltanto metto alla prova la buona fede più generosa e di ciò mi preoccupo poco ma e questa è un'altra faccenda rinnovo anche le mie sofferenze percorro nuovamente sino alla fine quella strada dolorosa giunse improvvisamente un'ora dopo la quale se mi guardo addietro mi pare che tutto sia stato pura sofferenza e la via di scampo più sicura sta nell'andare avanti una sera senza che nulla me ne avvertisse o preparasse sentii passare su di me il soffio ghiacciato che mi aveva accolto la notte del mio arrivo e che la prima volta tanto più leggero come ho accennato non avrebbe forse lasciato in me nessun ricordo se il mio soggiorno successivo fosse stato meno agitato c'era a Bly una stanza piena di vecchi libri tra cui alcuni romanzi del secolo scorso che sebbene godessero di cattiva fama erano penetrati per lo più sotto forma di un esemplare isolato in quella casa appartata eccitando la mia inconfessata giovanile curiosità ricordo che avevo tra le mani la melia di Fielding e anche che ero perfettamente sveglia ricordo pure d'aver avuto una vaga idea che fosse molto tardi ma non volevo guardare l'orologio rivedo infine le bianche cortine che avvolgevano secondo la moda del tempo la testata del letto di Flora e che proteggevano come mi ero assicurata da un pezzo la pace perfetta del suo sonno infantile ricordo per farla breve che nonostante fossi interessata alla mia lettura voltando una pagina smarrì improvvisamente il filo della storia e alzai gli occhi per fissare la porta della camera rimasi un momento in ascolto ricordando la vaga sensazione che avevo avuto la prima notte che qualcosa di indefinibile si aggirasse per la casa e notai che attraverso la finestra aperta una brezza leggera agitava la tenda chiusa a metà allora posai il libro mi alzai e presa una candela uscii senza esitare dalla camera dal corridoio dove il mio lume rompeva appena l'oscurità senza far rumore mi tirai dietro la porta e la chiusi a chiave non posso dire adesso che cosa mi spingesse e mi guidasse ma andai dritta lungo la galleria tenendo alta la candela finché non fu in vista del finestrone che dominava l'ampio giro della scala a quel punto mi resi conto di colpo di tre cose in pratica furono simultanee e tuttavia si susseguirono in tre lampi successivi la mia candela in seguito a un brusco movimento si era spenta e mi accorgevo dalla finestra priva di tende che la prima incerta luce del giorno la rendeva inutile pur senza la candela un istante dopo sapevo che c'era qualcuno sulla scala parlo di cose in successione ma non ebi bisogno di molti secondi per mettermi condizione di affrontare un terzo incontro con Quint l'apparizione aveva raggiunto il pianerotto la metà scala ed era di conseguenza il punto più vicino alla finestra dove vedendomi si fermò di colpo e mi fissò esattamente come mi aveva fissato dalla torre e dal giardino mi riconobbe come io l'avevo riconosciuto e restammo così faccia a faccia a fissarci intensamente nell'alba fredda e grigia nell'incerto chiarore che dalla specchiera si rifletteva nella lucida scala di quercia in quel momento egli era davvero nel senso più assoluto una presenza viva detestabile pericolosa ma non era questa la meraviglia delle meraviglie riservo questa definizione ad una circostanza del tutto diversa la circostanza che la paura senza ombra di dubbio mi aveva abbandonata e che non vera nulla in me che rifiutasse di incontrarlo e di affrontarlo dopo quel momento straordinario provai angosce infinite ma grazie a Dio non più terrore egli sapeva che non ne provavo e dopo poco ne ero magnificamente certa sentii in uno slancio di fiduciosa fierezza che se avessi tenuto il campo ancora per un minuto non avrei più dovuto almeno per qualche tempo tener conto di lui e durante quel minuto la cosa fu viva ed atroce come un incontro reale atroce proprio perché era viva ed umana come avrebbe potuto esserlo incontrare all'alba in una casa addormentata un nemico un avventuriero un criminale era il mortale silenzio del nostro lungo sguardo scambiato così da vicino a dare a quell'orrore per mostruoso che fosse l'unica nota di soprannaturale se avessi incontrato un assassino in quel luogo e in quell'ora avremmo almeno parlato qualcosa di animato sarebbe corso tra noi se non altro uno di noi si sarebbe mosso quel momento si prolungò talmente che poco mancava cominciassi a dubitare ed esserviva io stessa non so esprimere ciò che accadde poi se non dicendo che il silenzio divenne l'elemento in cui vidi scomparire la forma di lui la vidi voltarsi come avrei potuto veder girare su se stesso in seguito a un ordine il miserabile a cui essa aveva un tempo appartenuto con gli occhi con gli occhi che tenevo fissi su quella schiena ignobile che nessuna gobba avrebbe potuto maggiormente sfigurare la vedi scendere in fretta i gradini e sparire nella tenebra in cui si smarriva l'altra rampa della scala rimasi per qualche tempo in cima alla scala ma a poco a poco si fece strada in me la certezza che il mio visitatore se n'era andato che non c'era più davvero allora ritornai nella mia stanza la prima cosa che colpì il mio sguardo alla luce della candela che avevo lasciato accesa fu il lettino vuoto di flora questo fatto mi mozzò di colpo il fiato e mi riempì di tutto il terrore che cinque minuti prima ero riuscita a vincere mi slanciai dove l'avevo lasciata il piccolo coprilletto di seta e le lenzuola erano in disordine ma le cortine bianche erano state tirate con cura e inganno poi al rumore dei miei passi con mio indicibile sollievo rispose un altro suono mi accorsi che la tenda della finestra si muoveva e la bambina chinandosi emerse tutta lieta dall'altro lato se ne stava lì avvolta nel suo grande candore nella sua piccola camicia da notte coi suoi piedini rosa nudi e luminosi riccioli d'oro aveva un'aria molto grave e mai prima d'allora avevo tanto avuto l'impressione di perdere un vantaggio da poco acquistato come quando mi resi conto che mi stava rivolgendo un rimprovero cattiva dove siete stata invece di rimproverarla io per la sua indisciplina mi sentì obbligata a darle delle spiegazioni ma si spiegò anche lei con la più amabile e premurosa semplicità si era accorta improvvisamente che non ero più nella stanza ed era saltata dal letto per vedere che cosa mi fosse capitato per la gioia di rivederla ero caduta a sedere sentendomi ma soltanto allora venir meno e Flora mi era corsa accanto e si era arrampicata sulle mie ginocchia ponendo nella piena luce della candela il suo meraviglioso visino ancora arrossato dal sonno ricordo di aver chiuso gli occhi per un momento coscientemente arresa all'eccessiva bellezza che splendeva nelle sue pupille azzurre cercavi di vedermi dalla finestra chiesi pensavi che stessi passeggiando nel parco beh sapete pensavo che ci fosse qualcuno e me lo disse sorridendo senza esitare oh come la guardai allora e hai visto qualcuno oh no replicò quasi delusa con tutto il privilegio dell'incongruenza infantile benché prolungasse quel no con infinita dolcezza in quel momento nello stato di agitazione in cui mi trovavo credetti fermamente che mi mentisse potete immaginare che cosa fossero le mie notti a partire da quella più volte mi capitava di restare in piedi non so fino a quando coglievo il momento in cui la mia compagna a distanza sicuramente dormiva per scivolare fuori e andare pian piano su e giù per il corridoio e mi spingevo persino al punto dove avevo incontrato Quint l'ultima volta ma non l'incontrai più in quel luogo e posso anche dire subito che non lo rivedi mai più nella casa l'undicesima notte dopo il mio ultimo incontro con quel signore ormai le contavo una per una ebbe un allarme che rischiò di superare le mie forze e che per il suo carattere particolarmente inaspettato costituì il più grave turbamento che avessi mai provato era precisamente la prima notte di quel periodo in cui stanca per le continue veglie avevo creduto di potermi coricare allora che prima mi era abituale senza dar prova di inedigenza mi addormentai immediatamente e il mio sonno durò come seppi dopo sino a luna circa ma quando mi svegliai sedetti di colpo sul letto completamente sveglia come se una mano mi avesse scosso avevo lasciato una candela accesa ma ora era spenta ed ebbi immediatamente la certezza che l'avesse spenta flora saltai subito dal letto e nel buio andai diritta al suo era vuoto uno sguardo alla finestra mi illuminò ulteriormente e la luce di un fiammifero completò il quadro la bambina si era alzata di nuovo questa volta spegnendo la candela e ancora una volta allo scopo di guardare o di rispondere a qualcuno si era rannicchiata dietro la tenda e spiava nella notte che ora vedesse qualcosa il che come mi ero assicurata non era accaduto la volta precedente mi fu provato dal fatto che non fu distratta né dalla luce che avevo accesa né dai movimenti precipitosi con cui mi ero infilata le pantofole e una vestaglia nascosta protetta assorta si appoggiava evidentemente al davanzale la finestra si apriva verso l'esterno e si abbandonava completamente all'osservazione una gran luna pacifica che l'era d'aiuto mi aveva dato una ragione di più per affrettarmi era a faccia a faccia con l'apparizione che avevamo incontrato vicino al laghetto e ora poteva comunicare con essa come non aveva potuto fare prima quel che dovevo fare io era di raggiungere attraverso il corridoio senza disturbarla un'altra finestra dallo stesso lato della casa andai alla porta senza essere udita la varcai la chiusi e dall'esterno accostai l'orecchio per sentire se mai facesse qualche rumore mentre ero nel corridoio mi caddero gli occhi sulla porta del fratello che si trovava soltanto pochi passi più in là e che indicibilmente destava di nuovo in me quello strano impulso che ho già chiamato la mia tentazione e se fosse entrata dritta nella stanza per andare alla sua finestra con l'orecchio teso fino allo spasimo immaginavo che tutto fosse possibile mi chiedevo se anche il suo letto fosse vuoto e anche lui segretamente in vedetta passò un minuto interminabile senza suoni spirato il quale il mio impulso cedette era là tranquillo poteva essere innocente il rischio era orribile tornai sui miei passi c'era sì una figura nel parco una figura che vagava per strappare uno sguardo il visitatore con cui Flora era impegnata esitai ancora ma per altre ragioni e per qualche secondo soltanto poi avevo fatto la mia scelta a Bligh c'era abbondanza di camere vuote e fu solo questione di scegliere la più adatta questa mi fu chiaro all'improvviso era la camera del piano di sotto situata in quell'angolo massiccio della casa che ho chiamato torre vecchia era una stanza ampia quadrata arredata con qualche pretensione da camera da letto ma tanto scomoda per le sue dimensioni che non era occupata da anni sebbene la signora Grose la tenesse perfettamente in ordine l'avevo spesso ammirata e sapevo come muovermi dovevo soltanto una volta superata la stretta al cuore provocata dall'abbandono attraversarla ed aprire il più silenziosamente possibile una delle imposte fatto questo scopri il vetro senza far rumore e appoggiandovi il viso potei constatare dato che l'oscurità esterna era molto meno profonda che guardavo nella direzione voluta quindi vedi qualcosa di più la luna rendeva la notte straordinariamente diafana e mi lasciò vedere sul prato una persona rimpicciolita dalla distanza che se ne stava immobile come incantata gli occhi fissi nella mia direzione a guardare non tanto me quanto qualcosa che si trovava apparentemente sopra di me era chiaro che c'era un'altra persona sopra di me c'era una persona sulla torre ma la presenza sul prato non era affatto quella che avevo aspettato e incontro alla quale mi ero precipitata con tanta sicurezza la persona sul prato era il povero piccolo Miles solamente sul tardi del giorno dopo parlai con la signora Gross perché la cura che mettevo nel non perdere di vista i miei allievi mi rendeva spesso difficile incontrarla tu per tu e molto più perché sentivamo entrambe l'importanza di non provocare sia nella servitù che nei bambini il sospetto di una segreta agitazione e di discussioni misteriose a questo proposito ricavavo una grande sicurezza dal suo aspetto sereno nell'ora di cui sto parlando mi aveva raggiunta dietro mie insistenze sulla terrazza dove col declinare della stagione il sole pomeridiano era ormai piacevole e sedemmo insieme mentre davanti a noi a qualche distanza ma a portata di voce i bambini si aggiravano tranquillamente qua e là camminavano ad agio affiancati sul prato sotto di noi il bambino leggeva ad alta voce un libro di fiabe e passava un braccio sulle spalle della sorellina quasi per assicurarsi della sua presenza la signora Grose li osservava con tranquilla placidità poi colsi in lei benché nascosto lo sforzo mentale di penetrare nel mio animo per scoprirvi il rovescio della medaglia avevo fatto di lei un ricettacolo di cose orrende ma nella pazienza che mostrava per la mia pena si rivelava un curioso riconoscimento alla superiorità delle mie doti e della mia funzione offriva il suo animo alle mie confidenze nello stesso modo che se avessi voluto preparare un filtro da streghe e darglielo da bere mi avrebbe teso una bella casseruola luccicante tale era in tutto e per tutto il suo atteggiamento quando nel mio resoconto degli avvenimenti della notte giunsi alla risposta datami da Miles allorché avendolo visto in un'ora così eccezionale quasi nello stesso punto dove si trovava adesso ero scesa a prenderlo stando alla finestra mi ero infatti decisa quella soluzione temendo di allarmare la casa con un richiamo rumoroso le avevo già lasciato capire la poca speranza che avevo nonostante la sua intensa partecipazione di trasmetterle appieno l'emozione che mi aveva dato la magnifica trovata con cui quando fummo rientrati il bambino aveva risposto alla mia sfida finalmente espressa in modo chiaro non appena ero comparsa nella luce della luna sulla terrazza mi era venuto incontro senza esitare allora in silenzio lo avevo preso per mano e lo avevo guidato al buio su per quella scala dove Quinta aveva vagato bramoso di lui e lungo il corridoio in cui avevo ascoltato e tremato sino alla sua camera deserta non una parola mentre camminavamo era stata scambiata tra di noi ed io mi chiedevo oh come me lo chiedevo se stesse frugando nella sua piccola mente per trovare una spiegazione plausibile e non troppo grottesca avrebbe certamente dovuto lambicarsi il cervello ed io stavolta provai al pensiero del suo possibile imbarazzo un curioso fremito di trionfo che trappola ingegnosa per l'imperscrutabile non avrebbe più potuto esibire il suo finto candore allora come diavolo se la sarebbe cavata in verità col palpito emozionante di questa domanda in me palpitava altrettanto il silenzioso interrogativo di sapere come diavolo avrei fatto io mi trovavo insomma costretta ad affrontare come non mai tutto il rischio che accompagnava anche adesso il risuonare della mia spaventosa nota ricordo infatti che entrai nella sua cameretta dove il letto era ancora intatto e la finestra spalancata ai raggi della luna diffondeva una luce così chiara che non fu necessario accendere nemmeno un fiammifero ricordo dicevo che ad un tratto mi sentì venir meno e mi lasciai cadere sulla sponda del letto vinta dall'idea che egli doveva sapere ormai fino a che punto mi aveva come si usa dire in pugno armato della sua intelligenza poteva far quel che gli piaceva sinché avessi continuata ad alimentare la vecchia tradizione dei maestri colpevoli di stillare nei giovani superstizioni e paure mi aveva davvero in pugno e in un pugno di ferro perché chi mi avrebbe assolta chi mi avrebbe salvata dalla forca se col più lieve tremito di una proposta fossi stata io la prima ad introdurre nel nostro perfetto rapporto un elemento così ripugnante non avevo altra alternativa che rivolgere a Miles la domanda una specie di domanda almeno adesso devi parlare e dirmi tutta la verità perché sei uscito che cosa facevi la fuori vedo ancora il suo meraviglioso sorriso il bianco dei suoi bellissimi occhi lo splendore dei dentini che scintillavano nella penombra se vi dico il perché mi capirete a queste parole senti il cuore in gola stava davvero per dirmi il perché mi mancò la voce per incoraggiarlo e mi accorsi che rispondevo soltanto con una smorfia vaga prolungata e forzata di assenso egli era la gentilezza fatta persona e mentre io continuavo ad assentire sembrava più che mai un principino di fiaba fu proprio la sua allegria a concedermi una tregua ma sarebbe stata così grande se fosse stato realmente sul punto di dirmi tutta la verità beh disse infine precisamente perché faceste quel che avete fatto fatto cosa perché tanto per cambiare pensaste che sono cattivo non dimenticherò mai la dolcezza e il brio con cui pronunciò quell'aggettivo né come per concludere si chinò in avanti e mi baciò quella fu praticamente la fine di tutto gli restituì il bacio e mentre lo stringevo per un attimo fra le braccia dovetti fare uno sforzo supremo per non piangere mi aveva reso conto della sua condotta esattamente nel modo che non mi permetteva di chiedere di più e fu soltanto per confermare che accettavo la sua risposta se gli domandai dopo aver gettato un'occhiata alla camera allora non ti sei spogliato per niente sembrò realmente splendere nell'ombra per niente sono rimasto in piedi a leggere e quando sei sceso a mezzanotte quando sono cattivo sono cattivo vedo vedo davvero una bella cosa ma come potevi essere sicuro che io l'avrei saputo oh mi ero messo d'accordo con flora lei doveva alzarsi e guardare fuori ed è proprio quello che ha fatto ero io a cadere nella trappola così vi ha disturbata e per vedere quello che stava guardando anche voi avete dovuto guardare e avete visto mentre tu completai rischiavi di prendere un malanno stando fuori di notte era era così felice per la sua prudezza che si permise di assentire tutto raggiante come avrei potuto altrimenti essere abbastanza cattivo chiese e dopo un altro abbraccio l'incidente e il colloquio furono chiusi con un formale riconoscimento da parte mia di tutte le riserve di bontà che aveva dovuto impiegare per permettersi un simile scherzo la particolare impressione che avevo ricevuto lo ripeto risultò difficile da presentare alla signora grosa alla luce del giorno benché la rafforzassi riferendo un'altra osservazione che Miles aveva fatto prima che ci separassimo tutto sta in una mezza dozzina di parole le dissi parole che mettono davvero a punto la questione pensate un po' a quello che potrei fare mi ha detto per provarmi quanto sia buono sa benissimo che cosa potrebbe fare ne ha dato un saggio a quelli del collegio dio mio come siete cambiata esclamò la mia amica non sono cambiata spiego le cose come stanno semplicemente potete star sicura che quei quattro si incontrano di continuo se in una di queste ultime notti foste stata con l'uno con l'altra dei bambini lo avreste capito chiaramente più osservato e atteso più mi sono resa conto che in mancanza ad altre prove sarebbe sufficiente il sistematico silenzio di ciascuno di loro mai nemmeno a fior di labbro hanno formulato una semplice allusione ai loro antichi amici né Miles ha mai accennato alla sua espulsione dal collegio oh sì 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 possiamo star qui sedute a guardarli e loro possono darcela a bere sin che vogliono ma persino quando fingono ad essere perduti nelle loro fiabe sono sprofondati nella visione dei morti che ritornano lui non sta affatto leggendo sillabai stanno parlando di loro stanno parlando di orribili cose lo so lo so lo so mi sto comportando come una pazza ed è un miracolo che non lo sia davvero quello che ho visto io vi avrebbe fatta impazzire ma ha reso me soltanto più lucida mi ha fatto comprendere molte altre cose la loro bellezza più che terrena la loro bontà assolutamente anormale tutto ciò non è che un gioco un'ostentazione un inganno non sono stati buoni sono stati soltanto assenti è stato facile vivere con loro semplicemente perché vivono una propria vita non sono miei non sono nostri sono di lui sono di lei di quinte della donna di quinte della donna vogliono arrivare a loro oh come a questo punto la signora Grose parve studiarli con cura ma perché per amore di tutto il male che in quei giorni terribili la coppia ha inculcato in loro e nutrirli ancora di quel male continuare l'opera infernale è lo scopo del loro ritorno per dinci esclamò la mia amica quasi senza fiato l'esclamazione era comune ma dimostrava un'autentica accettazione dell'ulteriore prova da me fornita di quello che doveva essere accaduto in quei giorni amari perché erano stati giorni certamente peggiori anche dei presenti nulla avrebbe potuto giustificarmi più di quel semplice consenso dettato dalla sua esperienza riguardo l'abisso di depravazione che già sospettavo in quella coppia di malfattori fu la causa per cui vinta dal flusso dei ricordi un momento dopo si lasciò sfuggire erano davvero delle canaglie ma che cosa possono fare ora aggiunse fare esclamai come un eco ma così forte che Miles e Flora passando da lontano si fermarono un momento a guardarci non fanno già abbastanza domandai in tono più basso mentre i bambini dopo averci sorriso fatto un cenno col capo e scoccato un bacio verso di noi sulla punta delle dita riprendevano la loro commedia per un momento questa attirò la nostra attenzione poi risposi possono distruggerli a queste parole la mia compagna si voltò ma la domanda che mi rivolse era muta ed ebbe solo l'effetto di rendermi più esplicita non sanno ancora esattamente come fare ma ci stanno provando con tutte le loro forze si fanno vedere solo attraverso le cose per così dire o al di là di esse in strani luoghi e in punti elevati sulla cima delle torri sui tetti delle case fuori delle finestre sulla sponda opposta degli stagni ma c'è un sottile proposito da entrambe le parti di accorciare le distanze e superare l'ostacolo e il successo dei tentatori è soltanto questione di tempo non hanno che da insistere nelle loro tentazioni perché i bambini accorrano e periscano nel tentativo la signora Gros lentamente si alzò ed io aggiunsi presa da scrupolo a meno che naturalmente noi riusciamo a impedirlo stando in piedi davanti a me che restavo seduta si sforzava visibilmente di valutare la situazione lo zio deve impedirlo sta a lui portarvi via e chi lo convincerà fino a quel momento aveva fissato lo sguardo lontano ma ora girò verso di me il suo volto attonito voi signorina andando in chiesa una domenica mattina avevo il piccolo Miles al mio fianco davanti a noi bene in vista camminava la sorellina al fianco della signora Grose era una giornata chiara un po' fredda la prima del genere da qualche tempo la notte aveva disteso un velo di brina e l'aria d'autunno frizzante e viva rendeva quasi festoso il suono delle campane per una curiosa disposizione d'animo in quel momento ero particolarmente e piacevolmente colpita dalla ducilità dei miei piccoli allievi perché non sentivano mai il peso della mia inesorabile perpetua compagnia in un modo o nell'altro ero giunta a rendermi conto che non avevo fatto altro che cucire il bambino alle mie sottane e che almeno a giudicare da come i miei protetti erano guardati a vista sembrava che volessi premunirmi contro il pericolo d'una rivolta ero come un carceriere che vigilasse per impedire qualche fuga o sorpresa ma tutto ciò voglio dire la piccola splendida resa dei bambini si ricollegava proprio a quanto c'era di più singolare nelle nostre misteriosissime vicende vestito a festa dal sarto di suo zio che aveva avuto mano libera e sapeva apprezzare il valore di un panciotto elegante e del portamento signorile del suo piccolo cliente ma il sopportava talmente scritto in faccia il diritto all'indipendenza che gli conferivano il sesso e la sua condizione che se all'improvviso avesse preteso la sua libertà io non avrei saputo che cosa dire per la più strana coincidenza stavo appunto domandandomi come in tal caso avrei potuto tenergli testa quando la rivoluzione scoppiò senza ombra di dubbio la chiamo rivoluzione perché mi accorgo ora come con le poche parole che disse il sipario si alzò sull'ultimo atto del mio spaventoso dramma e la catastrofe si verificò per favore mia cara disse gentilmente sapreste dirmi quando mai tornerò in collegio così trascritto il discorsetto suona abbastanza innocente tanto più per essere stato pronunciato col timbro carezzevole sincero disinvolto che faceva sempre per le sue intonazioni come tante rose gettate all'interlocutore in particolar modo quando si trattava della sua eterna istitutrice c'era qualcosa in esse che non mancava mai di prendere e in ogni caso io ne fui allora così presa che mi fermai di colpo come se uno degli alberi del parco fosse caduto attraverso la strada qualcosa di nuovo si era levato là tra noi ed egli era perfettamente consapevole che io me ne ero resa conto sebbene per mettermi in quella condizione non avesse bisogno di rinunciare a un briciolo del suo candore e del suo fascino abituale sentivo come per il fatto stesso che non avevo saputo cosa risponde gli subito egli si fosse accorto d'essere in vantaggio mesi tanto tempo a trovare le parole che gli poté con calma dopo un minuto continuare col suo sorriso suggestivo ma vago dovreste capire mia cara che per un ragazzo a star sempre con una signora quel mia cara lo aveva sovente sulle labbra quando si rivolgeva a me e nulla più di quella affettuosa familiarità avrebbe potuto esprimere meglio la precisa sfumatura di sentimento che desideravo ispirare i miei allievi era così facilmente rispettoso ma oh come sentì allora quanto dovessi pesare le parole ricordo che per guadagnare tempo cercai di ridere e mi sembrò di leggere nel suo bel viso mentre mi guardava quant'ero brutta e strana in quel momento e sempre con la stessa signora esclamai non impallidi non battè ciglio l'intera faccenda era evidentemente nota entrambi ancora oggi rimango convinta di questa piccola angosciosa idea che gli sembrava saperlo e se ne serviva per divertirsi e non potete dire che io non sia stato terribilmente buono non è vero gli posai la mano sulla spalla perché sebbene sentissi quanto sarebbe stato meglio proseguire la passeggiata non ero del tutto capace no questo non posso dirlo Miles ad eccezione di quell'unica notte ricordate quell'unica notte non potevo guardarlo dritto in faccia come lui stava facendo con me ma come quando sono sceso giù quando sono uscito di casa oh sì sì ma non ricordo perché lo hai fatto non ve ne ricordate e parlava con la suave esuberanza tipica dei rimproveri infantili ma era proprio per dimostrarvi che potevo farlo oh sì potevi farlo e posso farlo di nuovo sentii che forse nonostante tutto potevo restare in possesso delle mie facoltà certamente ma non lo farai no non ancora quello quella era una cosa da niente era una cosa da niente dissi ma ora dobbiamo andare riprese a camminare il mio fianco passandomi una mano sotto braccio allora quando tornerò in collegio mentre riflettevo assunse la mia aria più autorevole eri molto felice in collegio sembrò pensare un momento oh sono abbastanza felice ovunque ebbene allora la voce mi tremava se sei altrettanto felice qui oh ma questo non è tutto naturalmente voi sapete molte cose vuoi farmi capire che tu ne sai quasi altrettante arrischiai mentre faceva una pausa nemmeno la metà di quello che vorrei confessò onestamente Miles ma non è tanto questo che cos'è allora beh vorrei vedere un po' più di vita capisco capisco ma eravamo arrivati in vista della chiesa e di varie persone comprese alcuni componenti della servitù di blai che nell'andarvi si erano raggruppati vicino alla porta per vederci entrare affrettai il passo volevo entrare prima che la nostra discussione si spingesse troppo oltre riflettevo nervosamente che per più di un'ora una volta in chiesa egli avrebbe dovuto tacere e pensavo con sollievo alla vaga penombra del recinto riservato alla famiglia e dell'aiuto quasi spirituale che mi avrebbe dato il cuscino sul quale avrei potuto poggiare le ginocchia avevo effettivamente l'impressione di star disputando con lui una corsa diretta confusamente a un traguardo di sua scelta ma sentì con chiarezza che era già arrivato dove voleva quando ancor prima che fossimo giunti al cimitero antistante la chiesa disse all'improvviso voglio vivere con i miei pari la signora grose e flora erano già entrate in chiesa gli altri fedeli le avevano seguite e noi per il momento eravamo rimasti soli tra le vecchie tombe massicce ci eravamo fermati lungo il viottolo che partiva dal cancello vicino a una tomba bassa oblunga come una tavola all'improvviso miles disse qualcosa che mi obbligò a sedere sulla lastra quasi per un inatteso bisogno di riposo mio zio pensa quello che voi pensate con ostentazione non mi mossi come sai quello che penso io oh naturalmente non lo so benché mi stupisca che non me lo diciate mai ma intendo dire lui lo sa sa che cosa miles insomma come mi comporto non credo che a tuo zio interessi molto a queste parole miles mi fissò a lungo allora pensate che non si potrebbe spingerlo a interessarsene in che modo ma come facendolo venire qui e chi lo farà venire qui io disse allora il bambino con una vivacità e un'enfasi straordinarie mi lanciò un altro sguardo carico di quell'espressione poi si incamminò da solo verso la chiesa la faccenda praticamente terminò lì perché non lo seguì era una deplorevole resa allo stato dei miei nervi e il fatto di rendermene conto non mi aiutò per nulla ritrovare un po' di calma non potevo che restare là seduta sulla mia tomba a cercare di indovinare il senso completo di quanto mi aveva detto il mio piccolo amico e quando giunsi ad afferrarlo interamente avevo anche deciso di giustificare la mia assenza col pretesto che mi vergognavo di offrire ai miei allievi e al resto della congregazione un esempio tale di ritardo ma mi ripetevo soprattutto che Miles mi aveva strappato una preziosa confessione e ne avrebbe avuto la prova proprio da quel mio disgraziato collasso mi aveva fatto confessare che c'era qualcosa di cui avevo una gran paura e probabilmente si sarebbe servito della mia paura per ottenere una maggiore libertà per i suoi scopi la mia paura era di dover trattare la questione intollerabile dei motivi della sua cacciata dal collegio perché quella in realtà era la questione a cui si riallacciavano tutti gli altri orrori che suo zio arrivasse per trattare con me di quelle cose era una soluzione che a stretto rigor di logica avrei ora dovuto desiderare ma potevo tanto poco affrontarne la ripugnanza e la pena che mi limitavo a rimandare e vivevo alla giornata il ragazzo con mia profonda umiliazione era pienamente nel suo diritto e nella condizione di dirmi o mettete in chiaro col mio tutore il mistero di questa interruzione dei miei studi o la smettete di aspettarvi che io continui al vostro fianco una vita tanto innaturale per un ragazzo ma la cosa veramente innaturale per il ragazzo di cui mi occupavo stava nell'improvvisa rivelazione che lui era consapevole della situazione ed aveva un piano al riguardo era questo ciò che mi sconvolgeva davvero e mi impediva di entrare in chiesa camminai intorno al tempio esitante indecisa pensavo che ai suoi occhi mi ero già irrimediabilmente compromessa per la prima volta dopo il suo arrivo sentivo il desiderio di stargli lontana uscii decisa dal cimitero e riflettendo intensamente ritornai sui miei passi attraverso il parco giunta a casa mi parve d'essere ormai decisa a fuggire la calma domenicale che vi regnava tanto all'esterno che all'interno dove non incontrai nessuno mi colpì come l'offerta discreta di un'occasione unica se me ne fossi andata in fretta in quel modo avrei potuto scomparire senza scene senza una parola ma la mia sveltezza avrebbe dovuto essere eccezionale e la questione di un mezzo di trasporto era la più difficile da risolvere ricordo che nell'atrio tormentata dalle difficoltà e dagli ostacoli che mi restavano da superare mi lasciai cadere ai piedi della scala improvvisamente sfinita mi sedetti sul gradino più basso poi con una violenta reazione rammentai che esattamente in quel punto più di un mese prima nella tenebra notturna avevo visto lo spettro della più orribile delle donne curva sotto il peso della sua malvagità a questo pensiero riuscì a rialzarmi percorsi su su il resto della scala e mi diressi preda di un forte turbamento verso lo studio dove c'erano alcuni oggetti di mia proprietà che dovevo prendere ma ha persi la porta solo per scoprire in un lampo che i miei occhi si erano riaperti davanti a quel che vedi ritrovai di colpo tutta la mia capacità di resistenza seduta al mio tavolo nella chiara luce del meriggio vedi una persona che senza la mia precedente esperienza avrei potuto scambiare al primo sguardo per qualche domestica rimasta di guardia alla casa e che concedendosi un raro sollievo dal suo incarico e servendosi dello scrittoio nonché della mia penna inchiostro e carta si fosse dedicata alla considerevole fatica di scrivere una lettera al suo innamorato la fatica traspariva dal modo con cui mentre le braccia appoggiavano sul tavolo le mani sostenevano la testa con evidente stanchezza ma nel momento stesso in cui mi rendevo conto di questo avevo già notato che nonostante il mio ingresso il suo atteggiamento stranamente non era mutato poi bastò il semplice accenno del gesto un cambiamento di posizione scoprì la sua vera identità si alzò non come se mi avesse sentito entrare ma con una tristezza incredibilmente grande intrisa di indifferenza e di stacco e a una dozzina di passi da me ecco ritta in piedi la vile signorina che mi aveva preceduta disonorata e tragica stava tutta intera davanti a me ma proprio mentre la fissavo e me ne incidevo l'immagine nella memoria l'orribile figura sparì scura come la notte nel suo abito nero nella dannata bellezza e nel suo chiuso dolore mi aveva guardata abbastanza a lungo per lasciarmi capire che il suo diritto di sedersi al mio tavolo valeva il mio di sedersi al suo durante quegli istanti fremetti per l'impressione che l'intrusa fossi io in una selvaggia protesta contro quest'impressione mi udì urlare rivolta direttamente a lei orrenda miserabile donna e la mia voce attraverso la porta aperta e che giò lungo il corridoio e la casa deserta mi guardò come se mi avesse sentito ma mi ero ripresa in un'atmosfera già più respirabile un attimo dopo nella stanza non restavano che la luce del sole e la certezza che dovevo rimanere ero talmente sicura che il ritorno dei miei allievi sarebbe stato accompagnato da qualche rimostranza che provai un nuovo turbamento nel vedere che non aprivano bocca a proposito della mia assenza invece di rimproverarmi gaiamente e di blandirmi non allusero minimamente al fatto che li avevo lasciati soli e per il momento non mi rimase che studiare la strana espressione della signora Grose visto che anche lei non mi diceva nulla lo feci intenzionalmente e alla fine mi convinsi che in qualche modo l'avevano costretta al silenzio un silenzio tuttavia che mi ripromettevo di rompere non appena ci fossimo trovati a tu per tu l'occasione buona si presentò prima dell'ora del tè feci in modo di restare cinque minuti con lei nella sua stanza dove nel crepuscolo in mezzo all'odore del pane appena brustolito ma con tutto bene in ordine intorno a sé la trovai seduta davanti al fuoco in una tranquilla sofferenza sono venuta con voi soltanto per fare una passeggiata dissi poi ho dovuto tornare indietro per incontrare un'amica si mostrò sorpresa un'amica voi sono tornata a casa mia cara proseguì per fare due chiacchiere con la signorina Gessel avevo preso ormai l'abitudine prima di toccare questo tasto di avere bene in pugno la signora Grose si è che persino in questa circostanza mentre sbatteva coraggiosamente le palpebre al significato delle mie parole riuscì a tenerla relativamente calma due chiacchiere volete dire che lei ha parlato è accaduto così l'ho trovata al ritorno nel mio studio e che cosa ha detto mi par di sentire ancora in quella brava donna la sincerità del suo stupore che soffri tormenti fu questo in realtà che la riempì di stupore e rimase a bocca aperta sforzandosi di ricostruire la scena volete dire balbettò delle anime perdute delle anime perdute dei dannati e perciò per dividerli con qualcuno a mia volta per l'orrore mi mancò la voce ma la mia compagna meno dotata di immaginazione mi incalzò per dividerli con vuole flora a queste parole la signora gross mi sarebbe potuta sfuggire di mano se non fossi stata più che preparata la tenni ben stretta per provarle che lo ero ma come vi ho già detto non importa perché avete deciso ma deciso che cosa ogni cosa e cioè ma come mandare a chiamare lo zio oh signorina per carità fatelo esclamò la mia amica ah ma lo farò lo farò vedo che l'unica soluzione ciò che si è chiarito tra Miles e me è proprio questo che se lui crede che io abbia paura di farlo e ha certe idee su quel che ne potrebbe guadagnare vedrà che si è sbagliato gli scriverò chiaramente proseguì su un tono inesorabile che mi è impossibile occuparmi di questa faccenda trattandosi di un ragazzo cacciato per motivi che non abbiamo mai saputo dichiarò la signora Grose per cattiva condotta per quale altra ragione dal momento che è così intelligente è bello è perfetto è forse uno sciocco ha cattive maniere è malaticcio ha un brutto carattere no è squisito quindi può essere stato soltanto per quello e quel motivo chiarisce tutto in fondo dissi la colpa è dello zio si è lasciato qui gente di quella risma veramente lui non li conosceva bene la colpa è mia era diventata pallidissima beh non dovete tormentarvi voi risposi i bambini non devono soffrire ribattì con enfasi tacqui per un poco mentre continuavamo a fissarci risposi risposi Grazie a tutti. 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 Quella sera mi spinsi fino al punto di cominciare la lettera. Il tempo era ancora cambiato. Soffiava un forte vento e sotto la lampada in camera mia, con flora che riposava pacificamente accanto a me, rimasi a lungo seduta davanti ad un foglio bianco, ascoltando lo scroscio della pioggia e l'urlo delle folate. Infine uscii, attraversai il corridoio e rimasi in ascolto un minuto alla porta di Miles. Ero stata spinta nella mia interminabile ossia a cercare di cogliere qualche segno che mi provasse che era ancora sveglio. ed un tratto ne avvertì uno, ma non sotto la sua voce squillò. Non fa rumore? se non a voi. E anche la luce tremolante della candela era sufficiente a mostrarmi come mi sorrideva dal suo guanciale. Cosa intendi dire con tutto il resto? Oh, ma voi lo sapete, voi lo sapete. Per un minuto ancora non fu in grado di parlare, sebbene sentissi, mentre gli tenevo la mano e i nostri sguardi continuavano a incrociarsi, che il mio silenzio aveva proprio l'aria di approvare quanto aveva detto, e che nulla, forse, nell'intero mondo della realtà era in quel momento più fantastico della nostra attuale relazione. Certamente tu farai ritorno in collegio, dissi. Sei questo che ti turba, ma non in quello dove stavi prima. Dobbiamo trovarne un altro, uno migliore. Come potevo immaginare che questo problema ti preoccupava tanto se non me l'hai mai detto, non me ne hai mai parlato affatto. Sembrò riflettere, poi sorrise di nuovo, con la sua solita amabilità. Ma era evidente che voleva guadagnar tempo. Aspettava, cercava qualcosa che lo guidasse. Davvero non l'ho mai fatto? Non stava a me aiutarlo. Stava a ciò in cui io stessa mi ero imbattuta. Qualcosa, nel tono della voce e nell'espressione del viso, mentre mi parlava così, mi aveva trafitto il cuore, con una pena che non avevo provato mai. Tanto era indicibilmente toccante lo spettacolo del suo piccolo cervello, tormentato, e di tutti i piccoli artifici cui ricorreva per recitare, costretto dal sortilegio che pesava su di lui, una parte ingenua e coerente. — No, mai, dal momento in cui sei tornato. Non mi hai nominato mai uno dei tuoi insegnanti, uno dei tuoi compagni. Mai, mio piccolo Miles. Non ti ho mai sentito fare la benché minima allusione alla tua vita passata. Sembravi accettare il presente nella maniera più completa e definitiva. Era straordinario come la mia assoluta convinzione della sua segreta precocità me lo faceva apparire, nonostante i segni appena visibili del suo intimo turbamento, accessibile come una persona adulta, e me lo imponeva quasi come un mio pari dal punto di vista intellettuale. Pensavo che desiderassi andare avanti così. Lo vidi a questo punto arrossire leggermente. Ad ogni modo, come un convalescente un po' affaticato, scosse languidamente la testa. — No, no, voglio andar via. — Sei stanco di Bly? — Oh, no, Bly mi piace. — Bene, e allora? — Oh, voi sapete bene che cosa vuole un ragazzo. Sentivo di non saperlo bene quanto Miles, e cercai uno scampo momentaneo. — Vuoi andare da tuo zio? — Di nuovo a queste parole, la sua cara faccia ironica fece un movimento sul guanciale. — Ah, non ve la potete cavare così. Per un po' restai in silenzio, e forse fui io questa volta a cambiar colore. — Ma caro, non intendo affatto cavarmela. — Non potete, nemmeno se lo voleste. Non potete, non potete. E giaceva sul letto guardandomi, coi suoi begli occhi. — Mio zio deve venire qui, e voi dovete sistemare tutto quanto. L'emozione mi travolse al punto di non poterla più dominare, tanto che mi lasciai vincere. Mi gettai su di lui, e lo abbracciai con tutta la tenerezza che nasceva dalla mia pietà. — Mio caro piccolo, mio caro piccolo Miles. Il mio viso toccava il suo, ed egli si lasciò baciare con indulgente buona grazia. — Allora, cara vecchia signora? — Non c'è niente, proprio niente, che tu non senta il bisogno di dirmi. Si girò un poco, volgendosi al muro, e alzò la mano per guardarla, come si vede fare spesso ai bambini malati. — Ve l'ho detto, ve l'ho detto questa mattina. — Ah, come soffrivo per lui! — Cioè che vorresti soltanto che io non ti disturbassi? — Si volse a guardarmi, come per dimostrarmi che l'avevo compreso. Poi, nel modo più soave che gli fu possibile, che mi lasciaste in pace, solo, precisò. C'era in tutto questo una certa dignità, assai singolare, che mi obbligò a staccarmi da lui, sebbene, una volta in piedi, a restargli ancora vicino. Dio sa che non volevo tormentarlo, ma sentivo che, voltandogli le spalle in quel momento, voleva dire abbandonarlo, o, per dirla più sinceramente, perderlo. — Ho appena cominciato a scrivere una lettera a tuo zio, dissi. — Bene, allora finitela. Attesi un momento. — Che cosa accadde prima? Egli alzò di nuovo lo sguardo su di me. — Prima di che cosa? — Prima che tu tornassi, e prima che tu te ne andassi. Per qualche tempo tacque, pur continuando a fissarmi negli occhi, che cosa accadde? Il tono di queste parole, in cui mi parve di sentire per la prima volta il palpito lieve d'una coscienza pronta a cedere, mi fece cadere in ginocchio accanto al letto, nel rinnovato tentativo di cogliere l'occasione di riconquistarmelo. — Miles, mio caro, se tu sapessi come desidero aiutarti, è soltanto questo, nient'altro che questo, e preferirei morire piuttosto che darti un dispiacere o farti un torto. Oddio, preferirei morire piuttosto che torcerti un solo capello. Caro piccolo Miles, lasciavo ora che tutto mi uscisse di bocca, anche a rischio di andare troppo oltre. Voglio soltanto che tu mi aiuti a salvarti. Ma un attimo dopo sapevo d'essere andata troppo oltre. La risposta al mio appello fu istantanea, ma venne sotto forma ad una fortissima ventata gelida, una folata d'aria ghiaccia e un tremito della stanza come se, sotto l'impeta del vento, la finestra avesse ceduto. Il bambino lanciò un urlo acutissimo, che, perduto in quel frastuono, poteva essere preso indifferentemente, e nonostante gli fossi tanto vicina, per un'esclamazione di gioia, come di terrore, balzai di nuovo in piedi. Era buio. Restammo così per un momento, mentre io mi rendevo conto che le tende erano rimaste tirate e la finestra chiusa. Ma la candela è spenta, gridai. Sono io che l'ho spenta, cara, disse Miles. Il giorno dopo, terminate le lezioni, la signora Groso trovò un momento per venirmi a chiedere sotto voce, — Avete scritto, signorina? — Sì, ho scritto. Ma non aggiunsi al momento che la lettera, chiusa e indirizzata, si trovava ancora nella mia tasca. Vi sarebbe stato tempo a sufficienza per spedirla al villaggio, prima che vi passasse il postino. Frattanto, quella mattina i miei allievi erano stati più brillanti, più esemplari che mai. Sembrava che ad entrambi stesse a cuore sorvolare su qualsiasi minimo recente attrito. Seppero risolvere i più complicati problemi aritmetici, superando tranquillamente le mie limitate capacità, e combinarono con un fervore più grande del solito i loro scherzi geografici e storici, in particolare Miles, naturalmente. Si mostrava ansioso di provarmi come gli riuscisse facile averla meglio su di me. Questo bambino, nei miei ricordi, vive realmente su uno sfondo di bellezza e di sventura che nessuna parola potrebbe esprimere, rivelava una sua particolare distinzione in ogni gesto. Mai nessuna creatura così giovane e autentica, che agli occhi dei non iniziati appariva assolutamente franca e libera, fu un più ingegnoso, un più straordinario piccolo gentiluomo. Dovevo stare continuamente in guardia per resistere allo stupore, all'ammirazione a cui i miei occhi, seppure iniziati, tentavano di trascinarmi. In ogni caso, egli non si era mai dimostrato un perfetto gentiluomo come quando, dopo la nostra colazione di buon'ora in quel terribile giorno, mi si avvicinò, e mi chiese se desideravo che per una mezz'ora suonasse per me. Sedette al vecchio pianoforte, e suonò, come non aveva mai suonato. E se qualcuno pensa che avrebbe fatto meglio uscire fuori e prendere a calci un pallone, posso soltanto dire che sono pienamente d'accordo con lui, poiché, al termine di un periodo di tempo che, stregata da lui, avevo smesso di misurare, mi riscossi di colpo, con la strana sensazione di aver letteralmente dormito sulla poltrona. Tutto ciò accadeva dopo pranzo, accanto al caminetto dello studio, e tuttavia non avevo in realtà dormito. Avevo soltanto fatto qualcosa di peggio. Avevo dimenticato. Dov'era stata Flora in tutto quel tempo? Quando rivolsi questa domanda a Miles, continuò a suonare per un minuto prima di rispondere. E alla fine si limitò a dire — Mia cara, e come potrei saperlo io? Scoppiando per giunta in un'allegra risata, che immediatamente dopo, quasi fosse un accompagnamento vocale, prolungò in una canzone incoerente, stravagante. Andai dritta in camera mia. Ma sua sorella non c'era. Poi, prima di scendere al pian terreno, guardai molte altre stanze, poiché non era lì. Doveva essere di sicuro con la signora Grose, alla ricerca della quale mi misi, rassicurata da quella convenzione. La trovai dove l'avevo trovata la sera prima. Ma la mia brusca domanda rispose, spaventata e stupita di non sapere nulla. Aveva semplicemente supposto che dopo il pranzo io avessi portato fuori tutti e due i bambini. E quanto a questo, aveva perfettamente ragione, perché era la prima volta che permettevo alla piccolina di allontanarsi senza un motivo particolare. Naturalmente, ora poteva essere in compagnia delle cameriere, sicché la prima cosa da fare era di metterci a cercarla senza dare a vedere la nostra preoccupazione. Ci mettiamo subito d'accordo a questo riguardo. Ma quando, dieci minuti dopo, ci ritrovammo nell'atrio come avevamo stabilito, potevamo soltanto riferirci a vicenda che non eravamo riusciti a rintracciarla. nonostante le nostre accurate ricerche. Per un minuto, lasciata da parte ogni osservazione, ci scambiamo uno sguardo di allarme e mi accorsi allora con quale pesante interesse la mia amica. Mi restituiva tutto quanto avevo scaricato su di lei fin dal principio. «Deve essere di sopra», disse dopo un poco, in una delle stanze in cui non avete cercato. «No, è lontana da qui», avevo stabilito. «È uscita!» La signora Gross mi guardò stupita. «Senza cappello!» Le risposi naturalmente con uno sguardo carico di significato. «Quella donna non è sempre a testa scoperta!» «È con lei!» «È con lei!» «Dobbiamo trovarle!» Dichiarai. «Il gioco è fatto! Hanno portato a termine con successo il loro piano! Ah, Miles ha trovato il più divino degli espedienti per tenermi tranquilla mentre lei fuggiva!» Finiva sempre, in momenti come quello, per stringermi la mano e in tal modo sarebbe d'uscita anche quella volta per fermarmi. Ma dopo aver ansimato per un po' sotto il colpo della mia improvvisa rinuncia, proruppe ansiosamente «È a causa della vostra lettera!» Rapidamente cercai la lettera, la tirai fuori, l'alzai e poi, liberandomi da lei, andai a deporla sulla grande tavola dell'atrio. «La prenderà Luke!» dissi tornando sui miei passi. Raggiunsi la porta d'ingresso e la persi. Un attimo dopo ero già sugli scalini. Quando se ne fu andata la signora Grose, giunse la grande prova. Qualunque cosa avessi contato di ricavare da restare sola con Miles, riconobbi presto che ne avrei tratto almeno un termine di paragone. L'arrosto di Montone era in tavola ed io avevo congedato la servitù. Miles, prima di sedersi, restò un momento in piedi con le mani in tasca, guardando l'arrosto, a proposito del quale sembrò sul punto di fare qualche spiritosa osservazione. Ma quello che poi disse fu «Allora, mia cara, è davvero tanto ammalata? La piccola Flora? Non tanto da non potersi sentire presto molto meglio. Londra la guarirà. Bligh ha smesso di farle bene. Vieni qui a prendere il tuo montone. Fu sollecito ad obbedirmi, portò con cura il piatto al suo posto e quando si fu sistemato proseguì. Bligh è diventato così all'improvviso poco indicato per lei? Non così all'improvviso. Da tempo si è potuto prevederlo. Allora perché non l'avete mandata via prima? Prima di che? Prima che fosse troppo malata per viaggiare. Fui pronta a rispondere. Non è troppo malata per viaggiare. Soltanto lo sarebbe diventata se fosse rimasta qui. Questo era proprio il momento giusto per farlo. Il viaggio scaccerà l'influenza maligna. Oh, quanto fui magnifica! E porterà via tutto. Capisco, capisco. In quanto a sussiego anche Miles ne era provvisto. Cominciò a mangiare con quel suo squisito contegno a tavola che, sin dal giorno del mio arrivo, mi aveva dispensata da ogni grossolano rimprovero. Qualunque cosa avesse provocato la sua espulsione dal collegio non era certo un contegno sconveniente a tavola. Infatti anche quel giorno egli era irreprensibile, come sempre, eppure senza dubbio più affettato. Era chiaro che cercava di dare per scontate più cose di quante non gli fosse possibile ammettere senza spiegazioni. E si immerse in un quieto silenzio mentre pensava alla sua situazione. Il pasto fu dei più brevi, per parte mia una vana finzione, e feci rapidamente sparecchiare. mentre questo avveniva, Miles rimase nuovamente in piedi con le mani in tasca, voltandomi la schiena. Stava in piedi, e guardava fuori della grande finestra attraverso la quale, quell'altro giorno, avevo visto ciò che mi aveva sconvolta. Finché la domestica rimase con noi, restammo in silenzio. In silenzio pensai ironicamente, come una giovane coppia in viaggio di nozze, intimidita in una locanda alla presenza del cameriere. Si voltò soltanto quando la domestica ci ebbe lasciati. Bene, eccoci dunque soli, o più o meno. Penso che il mio sorriso fosse scialbo. Non completamente, non ci piacerebbe. Continuai. No, suppongo di no. Naturalmente ci sono gli altri. Ci sono gli altri. Ci sono davvero gli altri. assenti. Non di meno, benché ci siano, replicò sempre piantato davanti a me con le mani in tasca. Non contano molto per noi, vero? Cercai di fare del mio meglio, ma mi sentivo sfinita. Dipende da quello che tu intendi per molto. Sì, rispose assai conciliante. Tutto dipende da quello. giravamo in cerchio, carichi di terrore e di incertezza, come lottatori che non osino avvicinarsi. Ma era l'uno per l'altra che temevamo. Questo ci tenne un po' più a lungo nell'attesa e senza ferite. Vi dirò tutto, disse Miles. Intendo dire che vi dirò tutto quello che volete. resterete ancora con me e staremo bene tutti e due ed io vi dirò tutto. Sì, vi dirò tutto, ma non ora. Perché non ora? La mia insistenza lo distolse da me e lo fece ritornare ancora una volta vicino alla finestra in un tale silenzio che tra noi si sarebbe sentito cadere uno spillo. Poi fu di nuovo davanti a me con l'aria di una persona attesa fuori di casa da qualcuno con cui si devono fare i conti a viso aperto. Devo vedere Luke. Non lo avevo ancora mai costretto a dire una bugia così grossolana e mi sentì invasa da vergogna in proporzione. Ma per quanto fosse orribile le sue bugie contribuivano a dar forma alla mia verità. Pensosa, terminai alcune maglie del mio lavoro. Bene, allora vada Luke ed io aspetterò che tu faccia quanto mi hai promesso. Soltanto prima di lasciarmi. In cambio soddisfa una richiesta molto più modesta. Mi guardò come se sentisse di aver conseguito un successo così grande da poter mercanteggiare ancora un po'. Molto più modesta? Sì, proprio una frazione dell'intero. Dimmi il mio lavoro mi teneva occupata e parlai con indifferenza. Dimmi se ieri pomeriggio sai dal tavolo dell'atrio hai preso la mia lettera. Per un momento la mia impressione di come lui avesse accolto la mia domanda fu influenzata da qualcosa che non posso descrivere che come una violenta frattura della mia attenzione. Un colpo che sulle prime mentre balciavo in piedi non mi consentì di afferrare il ragazzo alla cieca stringerlo a me e mentre cercavo a caso un sostegno nel mobile più vicino tenerlo istintivamente con la schiena rivolta alla finestra. L'apparizione che avevo già dovuto affrontare proprio in quel punto incombeva sopra di noi Peter Quint era comparso come una sentinella davanti a una prigione. Il volto che si appoggiava al mio era bianco come la faccia premuta contro il vetro e poco dopo ne provenne un suono né basso né debole ma che sembrava giungere da regioni lontane e che io bevi come un soffio d'aria balsamica. Sì l'ho presa io. Allora con un gemito di felicità lo abbracciai lo strinsi a me ancora più fortemente e mentre me lo tenevo sul seno sentendo nella febbre improvvisa di quel corpicino il tremendo pulsare del suo piccolo cuore i miei occhi non abbandonavano quell'oggetto alla finestra e lo videro muoversi e mutare di posizione. Perché l'hai presa? Per vedere che cosa dicevate di me. Quindi hai aperto la lettera. L'ho aperta. Il mio sguardo ora che avevo un po' allentato la stretta si posava sul viso di Miles sul quale caduta quell'aria ironica si leggeva quanto fosse completa la devastazione dell'inquietudine. Sentivo d'aver avuto causa vinta e che la mia vittoria sarebbe stata completa e non e non hai trovato ancora o mai più. che cosa che cosa hai fatto? Con una vaga espressione di dolore alzò e girò lo sguardo intorno al soffitto e respirò a fondo due o tre volte quasi con difficoltà lo si sarebbe potuto credere nella profondità ad un mare mentre con gli occhi guardava qualche lontano crepuscolo verde beh ho detto certe cose soltanto questo hanno pensato che bastasse per buttarti fuori di dolore Grazie a tutti. Lei certamente, persona buttata fuori, si mostrò meno prodiga di spiegazioni di quello strano ometto. Sembrava soppesare la mia domanda, ma in modo completamente distaccato e quasi smarrito. —Beh, suppongo che non avrei dovuto. —Ma a chi le hai dette? Evidentemente cercava di ricordare, ma non vi riuscì. Era un ricordo perduto. —Non lo so. Giunse quasi a sorridermi nella desolazione della propria disfatta, che era già così completa ormai, che avrei dovuto arrestarmi a quel punto. Ma ero come ubriaca, accecata dalla vittoria, benché persino allora la conseguenza di quest'ultima, anziché avvicinarmelo, non facesse altro che accentuare il nostro distacco. —Le hai dette a tutti? —Chiesi. —No, soltanto a... Ma scosse il capo con aria stanca. —Non ricordo i loro nomi. —Erano così tanti? —No, pochi. —Quelli che mi piacevano. —Quelli che gli piacevano. Mi pareva di librarmi, non nella luce, ma in un'oscurità più profonda, e un momento dopo, dalla mia stessa pietà, era scaturito la ghiacciante allarme che egli potesse magari essere innocente. Per un attimo l'enigma rimase confuso e insondabile, perché se egli era innocente, che ero io, dunque? Paralizzata, sintanto che durò dal semplice presentarsi di quella domanda, allentai la stretta, sicché, con un sospiro profondo, si allontanò di nuovo da me, cosa che, mentre volgeva il viso alla finestra vuota, tollerai, sentendo che là ormai non c'era più nulla da cui dovessi difenderlo. —E hanno ripetuto quello che hai detto? —Ripresi dopo un momento. —Oh, sì! —Rispose tuttavia. —Devono averle ripetute a quelli che piacevano a loro, aggiunse. Era meno di quanto in certo senso mi aspettassi, ma insistetti. —E quelle cose giunsero all'orecchio dei maestri? —Oh, sì! —Rispose con molta semplicità. —Ma non sapevo che le avrebbero ripetute. —I maestri? —Loro no, non ne hanno mai parlato, per questo te l'ho domandato. Rivolse ancora verso di me il suo bel visino febbricitante. —Sì, era troppo brutto. —Troppo brutto? Quel che penso di aver detto qualche volta. Troppo brutto da scrivere a casa. Quali erano queste cose? La mia severità era tutta per il suo giudice, il suo carnefice. Tuttavia lo spinse a voltarsi ancora. E quel gesto spinse me, con un solo balzo e un grido insopprimibile, a saltare letteralmente su di lui. Perché, eccola, di nuovo, contro il vetro, come per far intristire la sua confessione e frenare la sua risposta, il ripugnante autore della nostra maledizione, il livido volto della dannazione. Fui colta da un improvviso stordimento al crollo della mia vittoria, al riaccendersi della battaglia, cosicché l'irruenza del mio vero e proprio balzo servì soltanto a tradirmi. A metà del mio atto vedi che Miles aveva capito, come per divinazione, e nell'avvertire che anche questa volta egli poteva soltanto indovinare e che la finestra era sempre vuota per i suoi occhi. Lasciai divampare l'impulso di trasformare il culmine del suo sgomento nella prova stessa della sua liberazione. —Mai più! Mai più! gridai con voce stridula al mio visitatore, mentre cercavo di stringere il bambino al petto. —Lei è qui! domandò Miles con ansia, mentre seguiva con i suoi occhi sigillati la direzione delle mie parole. Poi, mentre quello strano, lei mi sconvolgeva, ed io lo ripetevo con un fil di voce, come un eco. —La signorina Gessel! La signorina Gessel! Mi gridò con una furia improvvisa, stupefatta, compresi ad un tratto la sua supposizione, come un seguito di quello che avevamo fatto con Flora. Ma ciò mi fece soltanto desiderare dimostrargli che si trattava di Melo. Non è la signorina Gessel, ma è alla finestra, dritto davanti a noi, è là, quel vile orrore, là per l'ultima volta! È lui! Ero ormai così decisa ad ottenere la prova voluta che, per sfidarlo, mi resi di ghiaccio. Che vuoi dire con quel lui? —Peter Quint! Demonio maledetto! Il suo viso rivolgeva ancora a tutta la stanza la supplica convulsa. —Dov'è? Ho ancora nelle orecchie la resa suprema del nome e il suo omaggio alla mia devozione. Che cosa ti importa di lui ormai, tesoro? Che importanza potrà più avere? Io ti ho! Gridai, rivolta all'essere immondo, mentre lui ti ha perduto per sempre. Poi, per dimostrare che la mia opera era compiuta, «Là! Là!» Dissi a Miles. Ma egli si era già girato di scatto, sbarrava gli occhi, guardava ancora, senza vedere altro che la luce quieta del giorno, sotto l'impressione di quella perdita di cui io ero tanto fiera. e gli emise il grido di una creatura scagliata oltre un abisso e l'abbraccio in cui lo strinsi avrebbe potuto veramente arrestarlo nella sua caduta. L'ho presi, sì, lo strinsi, forte! Si può immaginare con quanta passione! Ma prima che fosse trascorso un minuto, cominciai a rendermi conto di ciò che realmente stringevo tra le braccia. Eravamo soli nella placida luce del giorno e il suo piccolo cuore spezzato aveva cessato di battere. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.